Sono Pietro Cusimano, USB Lombardia, sono qua con Deborah Delpistoia di Amnesty International e Marco Perolini, che sono i due ricercatori che hanno redatto il report che presentiamo oggi. Io farò una breve relazione introduttiva che servirà soprattutto a contestualizzare i contenuti del report sul nostro territorio, perché qualcuno ha chiesto se il report è stato presentato già quasi un mese fa, perché questa esigenza? Perché il report deve trovare concretezza e capire all'interno del territorio cosa ha prodotto effettivamente. E quindi io ho una relazione a questo senso. Io mi aiuterò con delle slide per aiutare a fissare un po' i concetti. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che questa assemblea di oggi avrà al centro la questione dei diritti. Oggi non è una giornata di propaganda, oggi noi vogliamo mettere al centro della discussione i diritti e capire in che modo questi diritti di cui parleremo oggi, quindi alla salute, i diritti dei lavoratori, il diritto di espressione, di informazione, il diritto alla vita, stanno in relazione dentro, in questo caso, il sistema del RSA. Quindi noi oggi, diciamo, saranno i diritti a fare da collante. E io vorrei partire leggendo assieme a voi le prime dieci righe dell'introduzione della prefazione del report, che dice le operatrici e gli operatori sanitari e sociosanitari, che hanno lanciato l'allarme sulle inadeguate condizioni di lavoro e di sicurezza nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali durante la pandemia, sono stati spesso soggetti a procedimenti disciplinari e hanno temuto ritorsione da parte dei loro datori di lavoro per il solo fatto di avere denunciato presunte irregolarità sul posto di lavoro. Gli attori di lavoro, sia pubblici che privati, hanno impedito alle operatrici e agli operatori il godimento dei diritti alla libertà d'espressione e la libertà di associazione, ivi compreso il diritto a riunirsi in sindacato e a cercare, ricevere e diffondere informazioni. Le autorità italiane devono garantire che le voci di questi lavoratori e lavoratrici non siano ridotte a silenzio, bensì che siano ascoltate. Io credo che già faccia, in qualche modo, specie il fatto che Amnesty International decida di dedicare uno studio a quello che succede nell'RSA, che sono dei luoghi di cura, dove ci si occupa della salute di chi è lì dentro. E qualcuno più volte che adesso diceva, vabbè, ma in fondo che c'entrano i diritti dei lavoratori con i diritti poi di chi è dentro ricoverato, col diritto alla salute? Allora io, per rendere tutto questo molto semplice e molto più chiaro, vi racconto un piccolo aneddoto. Durante i primi mesi della pandemia, molti lavoratori dell'RSA ci chiamavano dicendoci, guarda io ho i sintomi, o qualcuno ha addirittura c'è detto che io sono positivo, ma devo andare al lavoro, perché sennò non mi rinnovano il contratto. Fine dell'aneddoto. Questo cosa vuol dire? Che è quello che è successo nelle RSA Lombarde, dove noi stimiamo ci siano stati qualcosa in più di 10.000 morti, ha avuto come causa principale il fatto che molti lavoratori all'interno di quel sistema sfuggivano a qualunque tipo di controllo e non erano garantiti da contratti giusti. Adesso vedremo anche il perché questo succede in Lombardia, e lo vedremo facendo un piccolo quadro veloce della situazione. In Lombardia ad oggi ci sono 723 RSA accreditate. Accreditate vuol dire che l'ATS, le ATS, quindi della Regione, ha stabilito che quelle RSA hanno i requisiti per funzionare. Di queste, oggi ne abbiamo 49 pubbliche per un totale di 4.783 posti letto e ben 674 private per un totale di 55.440 posti letto, quindi più di 10 volte. Questa è la situazione attuale, ma la situazione in Lombardia non è sempre stata questa. Fino al 2003 in Lombardia c'erano 757 IPAB, sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Le IPAB erano tutte pubbliche ed erano gestite direttamente dalle regioni e dai comuni. Quindi la regione, ad esempio Lombardia, nominava dei consiglieri di amministrazione e il comune dove quella RSA aveva sede, nominava, ne nominava altre tre. Quindi era una gestione diretta, ma a un certo punto si è deciso nel 2003, vado veloce, che le IPAB dovevano essere privatizzate, di fatto. Si aveva parlato di enti inutili, di soppressione, di accorpamenti. La verità però è che si è replicato all'interno del sistema socioassistenziale sul piano nazionale, quello che si era già fatto per le ferrovie, che si era già fatto per la SIP, cioè tutto un sistema di privatizzazioni che dovevano passare competenze dallo Stato ad altri soggetti. E così la Lombardia raccoglie questa occasione dettata da una legge nazionale e con la legge 1 del 2003 stabilisce che le IPAB, che erano ripeto 757, dovevano decidere se diventare soggetti di natura privata, quindi fondazione, o soggetti di natura pubblica, quindi ASP, aziende di servizi alla persona. Su 757, tra accorpamenti, chiusure e privatizzazioni, solo 13 rimasero pubbliche. Tutto il resto divenne un soggetto di natura privata. Oggi di ASP ce ne sono solo sette in tutta Lombardia e due sono quelle più grandi di cui oggi parleremo in modo abbondante, che sono l'ASP Colgire d'Aelli e il Pia Belgo Tribulzio, che insieme hanno circa 3.000 posti letto per anziani. Credo siano le due strutture più grandi sul territorio italiano che si occupano di geriatria. Però è importante capire, per capire veramente il danno che è stato fatto alla salute nostra, bisogna capire un po' cosa sono le IPAB, cosa sono le ASP di oggi, cosa sono le RSA. E allora, come nascono? Questo tipo di istituzioni nascono molto tempo fa. Nascono nel 1300. Succedeva che chi era ricco, chi era particolarmente ricco, particolarmente ambiente, i nobili, lasciavano delle ingenti quantità di denaro degli immobili mettendoli a disposizione di chi aveva più bisogno. Quindi erano gli orfani, i derelitti, invalidi, mutilati, insomma tutte le categorie di persone, attraverso i luoghi pi e le mosinieri. Quindi era questo il nome, i luoghi pi. Questi luoghi pi che sopravvivono, quindi così in modo frammentato per cinque secoli, nel 1860 vengono in qualche modo accorpati sotto le congregazioni di carità. Nel 1890, con la legge Crispi, nascono le prime IPAB. Durante il periodo fascista, quindi nel 1936, vengono costituiti gli enti comunali di assistenza, ECA, che è una sigla che per quelli più anziani ricorderanno, ECA, che erano sempre soggetti pubblici, quindi fino adesso parliamo sempre di soggetti pubblici che gestivano tutte le RSA. Quindi le RSA di tutti questi istituti. Nel 1978, gli ECA vengono trasferiti sotto la gestione delle IPAB. Quando parliamo di IPAB, parliamo non solo di posti letto, parliamo anche di ingenti, ingentissimi patrimoni immobiliari. Parliamo di, quindi parliamo di, ad esempio, a Milano, tra Bia, Pria, Belgo e Triburzio e Aspico e Gerelli. Ci sono migliaia di appartamenti che vengono dati in affitto, gestiti, palazzi storici, poderi in tutta la Lombardia, ma poderi enormi. Quindi ancora oggi il sistema dell'RSA, almeno di quelle pubbliche, e anche di molte che erano pubbliche, adesso sono diventate fondazioni, nascono dalla cosa? Dalla solidarietà. Dalla solidarietà, quindi pubblica, cioè dal fatto che qualcuno che aveva di più metteva in comune con chi aveva di meno ciò che era proprio. Nel 2003, come vi dicevo, nascono le Asp, quindi si passa da 757 soggetti pubblici a soli 13 e oggi sono soltanto 7. Quindi già questo dà l'idea di come siamo stati in qualche modo impoveriti noi cittadini di un patrimonio che era di tutti. Inizia il processo delle privatizzazioni e qua cominciamo ad incrociare le cose, capire perché le privatizzazioni sono un pericolo e hanno costituito un vero pericolo per la salute di chi era ricoverato nell'RSA. Innanzitutto con le privatizzazioni si passa, io ho scritto dalla salute al profitto, cioè mentre prima chi aveva i soldi li metteva a disposizione di chi aveva bisogno, quindi per i suoi bisogni, per la sua salute, adesso questo processo comincia ad invertirsi, cioè si parte dai bisogni delle persone per realizzare profitto. Quindi si ribalta completamente la logica, io mi metto nel business dell'RSA perché in Italia c'è l'età media che si sta inalzando, perché è un settore nel quale si fanno grossi profitti. Questa cosa avviene, questo processo quindi di privatizzazione avviene attraverso gli appalti. Io qui devo chiedere scusa da parte dell'avvocato Jacopo Sanchez che proprio stamattina ha avuto la febbre, stava venendo, mi ha detto Pietro io devo tornare indietro a Brescia e ho detto non ti preoccupare. Quindi dirò io due parole sugli appalti perché non ci sarà il suo intervento. Gli appalti perché sono così pericolosi? Perché gli appalti sono diventati un modo per sfuggire completamente alla legge, sfuggire completamente alle responsabilità. Con la legge Biaggi succede una cosa, che mentre prima chi prendeva gli appalti doveva dare garanzie concrete, doveva avere capitale, doveva avere soldi, doveva avere attrezzature per prendere un appalto, con la legge Biaggi tutto questo salta. Non è più importante che chi prende un appalto abbia attrezzature, abbia personale, abbia disponibilità economica. Basta che sappia organizzare. Anzi no, non è che sappia, basta che si proponga come organizzatore. Capite che questo cambia profondamente la natura dell'appalto, dell'esternalizzazione di un servizio. E dentro questa grossa falla si infilano tutta una serie di soggetti, che sono quei soggetti che oggi, appena c'è un problema, io qua vedo i colleghi dell'Aspicolgire da Elli seduti in fondo, ma quante volte abbiamo dovuto inseguire le cooperative che non pagavano più il TFR o l'ultimo stipendio una volta perso l'appalto. E poi fanno una cosa, cambiano nome in un attimo e diventano, evaporano, non sono più concrete. Ecco, gli appalti sono pericolosi perché hanno creato questo sistema. Cioè non c'è più la regola del delitto e castigo, c'è il delitto e non c'è il castigo, perché le strade per sfuggire al castigo sono molte. E poi ci sono le esternalizzazioni. Non sono stato bravo come Sanchez, però io, diciamo, però è importante capire il perché gli appalti sono pericolosi, no? Perché oggi si realizzano in questo modo. E poi vedremo dei casi concreti. E poi c'è la questione dell'esternalizzazione, quindi i servizi gestiti internamente vengono dati a terzi dietro pagamento, quindi dietro la questione degli appalti. Si precarizzano i rapporti di lavoro, perché oggi le cooperative ovviamente pagano il personale molto meno, ci sono molto meno garanzie, molti meno diritti, anche diritti contrattuali, le ferie, la malattia, vengono gestiti in modo più cruento, senza controlli. Poi vedremo perché senza controlli. E quindi questo si traduce in meno diritti per tutti, perché il meccanismo è quello che vi ho raccontato all'inizio. Se io non ho diritti che mi consentono, come dire, di far valere la mia condizione di lavoratore, io sono costretto a fare delle cose che mi chiede il datore di lavoro. E se faccio le cose che mi chiede il datore di lavoro, in una condizione normale è un danno per me, ma in una condizione, ad esempio, come quella pandemica, il danno è stato immediatamente trasferito sugli anziani. Quindi una parte delle migliaia e migliaia di morti sono state causate da questo meccanismo di precarizzazione del rapporto del lavoro. Un'altra parte è dovuta al ruolo delle istituzioni. Io mi rendo conto che dirò delle cose molto gravi, ma noi siamo in grado di dimostrare tutto quello che stiamo per dire. Le responsabilità. Le responsabilità. Partiamo dalla Regione Lombardia. La Regione Lombardia non ha più assolutamente il controllo sul sistema socioassistenziale. Non ce l'ha, non lo può avere con gli strumenti attualmente a disposizione. La Regione Lombardia ha rinunciato del tutto, perché poi non è vero che è così in tutte le Regioni, del tutto ad esercitare un ruolo, che è quello della funzione, della tutela, della salute, delle fasce più deboli. Perché nell'RSA ci sono le categorie più deboli, non solo gli anziani, ma anche altre categorie. Io penso che molto simbolica sia... ci sono due cose che sono altamente simboliche in questo. Una è il ruolo delle ATS, del quale parlerò tra un attimo e poi magari qualcuno approfondirà meglio l'aspetto dell'ATS. E l'altra è, ad esempio, la fine che ha fatto la commissione d'inchiesta. L'altro giorno, parlando con Deborah, ci diceva al telefono, dice certo che almeno in Inghilterra e Spagna stanno facendo finta di i lavori della commissione d'inchiesta. In Italia non solo non c'è stato, ma in Lombardia, dove siamo stati chiamati a depositare, quindi dove noi abbiamo depositato le denunce che avevamo fatte, abbiamo denunciato concretamente, con prove, tutto quello che avevamo vissuto dentro l'RSA, i lavori della commissione sono stati affossati. Cioè non che l'Italia si sia mai distinta per la qualità delle commissioni d'inchiesta, no, perché non hanno mai portato a niente, ma qua è stato proprio uno schiaffo, proprio uno schiaffo deliberato alla verità, dato da una classe dirigente che non ha le capacità in alcun modo di dirigere una regione di queste. Ma passiamo al ruolo dell'ATS. L'ATS è l'agenzia territoriale che dovrebbe vigilare sulla nostra salute. Già il fatto che l'abbiamo chiamata agenzia rende l'idea, no? Perché mentre gli ospedali sono aziende, questa è un'agenzia, quindi fa un'opera di intermediazione. Questo fanno le agenzie. L'ATS si è distinta durante l'epidemia per due questioni fondamentali. La prima è l'atteggiamento morbido, morbidissimo, con cui ha affrontato i controlli durante l'emergenza. L'ATS, vi ricordo, è l'ente preposto a dare gli accreditamenti, cioè a dire quale RSA possono funzionare e quale non possono funzionare. Ecco, i controlli non sono stati fatti. Quei pochi controlli che sono stati fatti in presenza sono stati fatti sulla carta, cioè gli ispettori arrivavano, si siedevano nell'ufficio del direttore generale, carte alla mano, facevano un rapportino e se ne andavano. Non avevano neanche i dpi per andare nei reparti. E poi l'hanno fatto con l'autocertificazione, cioè mandavano un questionario all'RSA che dovevano rispondere con le crocette e dire qua va tutto bene. Certo che sì. L'altra grande criticità è il fatto che l'ATS ha trasferito le competenze dall'ufficio ispettivo, cioè dagli ispettori, all'ufficio delle convenzioni, che sembra una cosa burocratica, ma non lo è. Perché se tu estrometti da questo controllo gli ispettori, i medici, gli ispettori, perché lo fai in una fase? Perché li metti in smart working, gli ispettori? E trasferisci tutto all'ufficio convenzione, cioè il controllato di fatto che fa anche la controllore. La vicenda dell'ATS è molto brutta e io su sta cosa voglio raccontarvi un episodio per far capire l'ATS quanto è, possiamo dirlo, complice e aggiungo colpevole. Noi ci siamo accorti, quando dico noi, dico io e i compagni dell'Aspicologia D'Aelli, stanno lì in fondo. Ci siamo accolti che nel reparto in appalto dell'Aspicologia D'Aelli morivano, io spero che questa cosa sia in qualche modo passata, e all'inizio dell'anno morivano, il tasso di mortalità nel reparto in appalto era quasi quattro volte superiore a quello dei reparti gestiti da noi direttamente. Quattro volte. abbiamo cercato di capire come mai e ci siamo accorti di una cosa. La racconto perché si deve capire chi è l'ATS e che ruolo svolge. Ci siamo accorti di questa cosa e qualcuno che lavora nelle camere mortuari, scusate sarò crudo, però è giusto essere estero, chi lavora nelle camere mortuari ci diceva a me sembra che quando arrivano i pazienti a questi reparti arrivano dei notriti. Facciamo una breve indagine, guardiamo i turni di lavoro e scopriamo che dalle 12 alle 13, quindi l'orario in cui si dispensa, c'erano in servizio tre persone che dovevano garantire a 38 persone ricoverate la distribuzione del vitto. Il che vuol dire signora cosa vuole? C'è questo e questo, cosa gradisce? Di secondo è la frutta la vuole. Cioè già questa operazione è fatta 42 volte in teoria, no? 40 volte, 38, quelle che sono. Poi dispensare, imboccare, imboccare le persone. Tenete conto che ci sono i disfaggici, le persone disfaggiche. Non è che possono mangiare alla mia velocità, io sono un bue. Cioè ci sono dei tempi dettati dalla medicina che dice un disfaggico ha bisogno di un tempo e noi disfaggici ce n'è circa il 35-40% nei reparti RSA. Poi finito tutto questo dovevano tirar via tutto e pulire i comodini, tre persone con 38 ospiti. È chiaro che ciò che veniva sacrificato molto probabilmente era l'alimentazione. Perché quando è capitato che qualcuno si fermasse di più e torniamo agli appalti, quando è capitato che qualcuno si fermasse di più per dire cacchio ma io sta persona le devo dar da mangiare, ha preso la contestazione dal debito disciplinare. Dico bene Franco? Ecco, questo è il sistema degli appalti. Allora noi abbiamo segnalato questa cosa all'ATS dicendo succede questo, questi sono i tassi, questi sono i reparti, questo è dove dovete andare a vedere, questo è questo, questo è questo. L'ATS ha fatto uscire 18 ispettori, io penso che è una cosa così nella storia che non si era mai vista, 18 ispettori nello stesso giorno nei tre istituti. Noi oggi stiamo aspettando ancora che ci dicano cosa hanno trovato. Gli abbiamo chiesto tre volte, non lo sappiamo. Non hanno trovato nulla evidentemente. era tutto normale. Abbiamo mandato le foto dei bagni di Velti, delle flebo attaccate, abbiamo mandato materiale fotografico. Quindi l'ATS oggi svolge questo ruolo. La denuncia l'abbiamo fatta tra giugno e luglio, mentre i dati hanno riferito di quest'anno, 2021, quindi già fuori dalla pandemia. Poi un altro soggetto, vado a chiudere, l'Ispettorato del Lavoro. L'Ispettorato del Lavoro dovrebbe vigilare sulla correttezza dei rapporti di lavoro e tutta una serie di questioni. Noi abbiamo segnalato, sempre all'ASP col Gerevelli, che c'era un appalto chiamato appalto illegittimo, appalto non genuino, cioè di fatto un appalto che non era un appalto di servizi, ma era un appalto in somministrazione di mano d'opera, era caporalato, per capirci. Cioè l'azienda, l'ASP col Gerevelli, ha detto che aveva bisogno di, faccio un esempio, 100 ore all'anno di infermieri, 100 ore di OS, invece parliamo di 50.000 ore. Ore che tra l'altro sono diventate da 50.000 sono diventate 180.000 all'anno. E noi quando abbiamo segnalato questa cosa all'Ispettorato abbiamo detto guardate che lì c'è un appalto illegittimo, correte, cioè va avanti da anni, tra l'altro un appalto che ha quadruplicato quasi le ore. Sono usciti dopo 963 giorni. 963 giorni. Quindi questo è il ruolo dell'Ispettorato. Poi c'è il Tribunale, sul quale noi non diciamo molto, però un dato certo c'è. Le decisioni che stanno arrivando dal Tribunale di Milano, quindi la Procura che chiede l'archiviazione per i fatti del Tribunzio. Nello stesso giorno un giudice ha rigettato il ricorso di 31 lavoratori che erano dentro quell'appalto e quindi avevano denunciato di essere stati assunti e aver lavorato in regime di somministrazione di mano d'opera. Il giudice ha respinto il ricorso. Un ricorso limpido, limpido, senza dubbi. Persino il nostro direttore generale, il dottor Lucchini, ha detto, quando è arrivato ha detto oh è vero, questa è somministrazione, aspetta che cambio subito l'appalto. E ha cambiato l'appalto con quella cosa che avevo raccontato. Quindi questo è il ruolo delle istituzioni. Ovviamente io parlo, dico come USB, noi siamo un piccolo sindacato, non è che possiamo fare gli ispettori, il commissario di polizia, il vigile urbano, l'assessore, cioè io penso che ognuno in questo paese deve svolgere il proprio ruolo. E allora torno alla frase iniziale del report che segna un po' una vergogna per il nostro paese. Perché se deve essere amnesty a dirci che dobbiamo curare i diritti dei lavoratori e dei pazienti dentro l'RSA è finita. Poi due parole sui media, guardate, l'attaccamento morboso dei media durante i primi mesi, io non ve lo sto a raccontare, ci chiedevano tutti se avete una persona da intervistare a faccia coperta, di spalle, di così, di tre quarti, è morboso. Oggi di fronte ai morti per denutrizione, solo un quotidiano ha ripreso la notizia, il fatto quotidiano. Tutti gli altri, chiedo scusa ai giornalisti presenti, ma nessuno ha ripreso. Quindi l'informazione è importante in questo processo. Chiudo. Oggi siamo qua. Ci sono i comitati, i cittadini, i sindacati, i partiti, i associazioni. A noi interessa far vedere che c'è una Lombardia che non si arrende a questo sistema di cose. Noi vogliamo rimettere al centro la questione dei diritti. E noi non ci arrenderemo e speriamo che nessuno dei presenti qua si arrenda a questo stato di cose. Nei comitati, nei politici, né chi ha avuto un ruolo sociale forte in questa vicenda. Ecco, oggi il senso della manifestazione di oggi è dire che c'è una parte della Lombardia che è sana e che non accetterà questo andazzo. Fino alla fine. Noi vogliamo arrivare ad avere verità e giustizia e di fronte a questo io posso garantire che l'USB sicuramente non si arrenderà. Ma sono certo che nemmeno i comitati e tutti gli altri soggetti presenti qua si arrenderanno. Ecco, spero di essere stato chiaro nell'aver fatto comprendere il senso della giornata di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Passo la parola a Deborah. Grazie mille Pietro e buona pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie di essere qua. Grazie soprattutto ai comitati di parenti e familiari che continuano appunto a portare avanti questa battaglia importantissima per la verità e la giustizia per quanto è avvenuto. E io volevo fare una piccola premessa prima di andare un po' più nel merito del nostro recentissimo rapporto pubblicato appunto il 22 ottobre dal titolo Messi a tacere e inascoltati in piena pandemia. Tornando un po' sulle ragioni per le quali Amnesty International aveva deciso di lavorare su questo tema che è un po' un tema diciamo nuovo per l'organizzazione. Noi avevamo iniziato ad interessarci già alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per persone anziane, le RSA in Italia ma anche in altri paesi europei che avevano vissuto in maniera molto brutale diciamo in cui il Covid aveva avuto un impatto molto brutale soprattutto all'interno di queste strutture già dall'estate del 2020 quando avevamo avviato proprio quattro ricerche in parallelo su quattro paesi europei. Uno era l'Italia appunto per ovvie ragioni. Gli altri paesi erano il Belgio, l'Inghilterra e la Spagna. Ricordo per esempio che in Inghilterra il Covid ha da marzo a giugno aveva il 40% del numero totale dei decessi di Covid nel paese erano persone che risiedevano nelle RSA mentre per il Belgio per esempio è un paese di cui si è parlato molto poco addirittura il 63% del numero totale dei decessi da marzo ad ottobre erano appunto pazienti ospiti scusate delle RSA quindi un numero altissimo anche in altri paesi. Attraverso la documentazione che avevamo raccolto appunto nei mesi successivi dall'estate del 2020 in poi eravamo riusciti in qualche modo a dimostrare che erano stati violati cinque diritti fondamentali in tutti e quattro i paesi ai danni appunto delle persone anziane residenti nelle strutture e parliamo in particolare di diritti fondamentali che sono riconosciuti da varie convenzioni internazionali prima su tutte il patto internazionale per i diritti economici e sociali che impegna le autorità in questo caso italiane ma anche degli altri paesi che hanno firmato queste convenzioni a rispettare e a proteggere questi diritti non solo nelle strutture pubbliche questo è importante ricordarlo ma anche nelle strutture private per cui le autorità statali hanno questo obbligo di monitorare che questi diritti vengono garantiti anche dentro le strutture private. Questi diritti fondamentali che sono stati violati nelle strutture sono il diritto alla vita, il diritto alla salute e il diritto alla salute ricordiamolo non è soltanto il diritto di ricevere cure mediche per uno standard il più alto possibile ma è anche legato per esempio alla prevenzione delle epidemie, è anche legato all'accesso all'informazione per quanto riguarda i rischi per la salute legato appunto a epidemie e alle misure che vengono prese dalle autorità per quanto riguarda la mitigazione dei rischi e c'è anche un tema legato alla riparazione quindi a che cosa le autorità devono fare per riparare i danni che vengono, che in qualche modo toccano le persone quando vengono, quando viene violato questo diritto fondamentale. Abbiamo anche parlato del diritto alla vita privata e alla privacy e questo è legato principalmente all'isolamento prolungato che hanno sofferto appunto gli ospiti delle strutture e di cui parleremo anche dopo e il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti che è una questione che non avremmo mai voluto in qualche modo definire in questi termini per quanto riguarda le RSA. Per quanto riguarda l'Italia avevamo pubblicato appunto un rapporto che riportava tutte queste criticità e violazioni nel mese di dicembre del 2020 e in quel rapporto avevamo detto cose che molti altri, molti di quelli sono anche presenti oggi, avevano allo stesso modo in qualche modo sottolineato e continuano a farlo in questo periodo e che erano appunto criticità relative a mancate, alla deprioritizzazione totale delle strutture per persone anziane rispetto alle strutture ospedaliere che andavano a sommarsi in qualche modo a delle criticità strutturali, alcune delle quali sono state anche segnalate da Pietro oggi, quindi un settore comunque già di per sé molto precario, pensiamo per esempio che l'Italia è uno dei paesi che ha il numero più basso di posti letto rispetto appunto ad una popolazione anziana, una delle popolazioni più avvecchie del continente europeo e un settore con appunto un'altissima precarietà del lavoro già in condizioni normali che chiaramente poi sono questioni che sono venute a esplodere in maniera molto molto brutale durante la pandemia. La governance del settore estremamente frammentata sia a livello pubblico privato ma anche a livello di settori diciamo di politici, cioè di gestione nazionale, regionale, locale ha a suo modo avuto un ruolo perché sono venute a mancare in qualche modo una presa di responsabilità da parte delle autorità che dovevano andare a verificare appunto Pietro ha menzionato il tema delle mancanze da parte delle aziende sanitarie locali che è un tema che abbiamo citato anche per le altre regioni che abbiamo analizzato che erano Veneto ed Emilia Romagna e poi c'è una questione molto importante che è quella della trasparenza che continua ad essere assolutamente un tema centrale perché in Italia manca ancora ad oggi una banca dati aggiornata organica, una raccolta dati organica che possa permetterci di avere una fotografia di quanto diciamo una fotografia del settore in tempi normali in questo momento pandemico di avere diciamo una fotografia di quanto è avvenuto. Pensate che appunto ad oggi non sappiamo effettivamente concretamente quante persone sono state contagiate e quante sono sono decedute all'interno di queste strutture sia per quanto riguarda gli ospiti che per quanto riguarda il personale sanitario perché non esistono questi dati, questi dati sono stati diffusi diciamo a discrezionalità delle varie aziende sanitarie locali nelle varie località però non esiste ad oggi un sistema che ci permetta di raccogliere questi dati in maniera omogenea il che significa che io oggi non posso dire quale regione ha fatto meglio di altre, che cosa è successo veramente all'interno di queste strutture e quindi anche di poter rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone anziane che in queste strutture vivono e devono appunto ricevere dei servizi adeguati alle loro esigenze. Ci sono state poi dei temi che sono appunto che avevamo denunciato che sono andati per fortuna a migliorare nei mesi successivi alla pubblicazione del nostro rapporto di dicembre in particolare il tema dell'isolamento, dei tamponi, dei dispositivi di protezione individuale che diciamo sono stati parzialmente o totalmente risolti, migliorati. C'è un tema invece che resta assolutamente cruciale ancora oggi che è quello delle politiche di visita e i comitati di parenti sanno molto bene che questo appunto è un tema assolutamente cruciale perché le persone anziane sono state sottoposte a un isolamento prolungato a partire appunto dalle primissime chiusure del mese di marzo del 2020 e ancora oggi purtroppo molte famiglie continuano a denunciare la mancanza di possibilità, di spazi per poter visitare i propri cari all'interno delle strutture. Mancano gli spazi per avere dei contatti esterni significativi per le persone anziane con il mondo esterno. Ci sono stati molti studi, non molti in Italia, ma ci sono studi scientifici che hanno dimostrato appunto anche l'impatto sia a livello fisico che cognitivo per le persone che sono state sottoposte a questo isolamento prolungato, soprattutto per le persone che soffrono di demenza, ma anche per, sappiamo benissimo che appunto le persone anziane vengono nutrite fortemente dalle famiglie, ma poi c'è un tema, appunto in queste strutture dove c'è una carenza di personale in qualche modo strutturale, le famiglie avevano anche un ruolo chiaramente strutturale proprio di sostegno anche allo staff sanitario e sociosanitario nelle RSA, oltre che un ruolo di monitoraggio di quanto avveniva e delle condizioni dei propri cari. Ecco, ad oggi, ormai un anno e mezzo e più dopo l'avvio dello Stato di emergenza, queste politiche di visita continuano a non essere adeguate e a non mettere ancora al centro i diritti delle persone anziane e dei propri cari. Il Ministero della Salute italiano aveva riconosciuto molto tardivamente, solo il 30 novembre del 2020, l'importanza di questi contatti significativi delle persone anziane con i propri cari e con nel mondo esterno in generale. A questo però non è seguito quasi niente. C'è stata poi un'ordinanza del mese di maggio di quest'anno che ha finalmente riconosciuto in qualche modo l'importanza di ripristinare le visite, perché l'Italia si stava riaprendo in tutti i suoi settori, ma le RSA continuavano a restare chiuse. Tanto è che anche la comunità di Sant'Egidio, per esempio nel mese di aprile di quest'anno, con una survey ricordava che addirittura il 64% delle strutture che erano state monitorate non garantivano alcuna visita e alcun contatto per le persone, per gli ospiti con il mondo esterno. Un dato importante è che per esempio il garante per le persone detenute, che è un organismo che normalmente monitora i luoghi di privazione della libertà, come le carceri, i centri di detenzione per persone migranti, eccetera, oggi in Italia stanno monitorando anche le RSA, quindi le RSA in qualche modo vengono considerate de facto come luoghi di privazione della libertà, perché le persone anziane appunto lì sono state recluse e non hanno ancora la possibilità di avere contatti significativi con il mondo esterno. C'è stata poi una circolare del mese di luglio sempre del Ministero della Salute che, come dire, suggeriva agli enti gestori di garantire almeno delle visite di 45 minuti con le famiglie e con i cari all'esterno delle strutture. Sappiamo però che purtroppo queste visite, cioè queste misure e queste ordinanze anche del Ministero della Salute continuano ad essere applicate in maniera totalmente arbitraria e a totale discrezione appunto del personale sanitario dei diritti di chi ci abita, sia in termini di salute che di sicurezza, e abbiamo quindi deciso di portare avanti poi un secondo lavoro di ricerca che è questo che vi raccontiamo oggi. E lascio qui la parola al collega Marco Perolini che vi darà un po' più di dettagli su questo. Funziona? Buon pomeriggio, vorrei ribadire ancora il mio ringraziamento per essere a tutti e a tutte per essere venuti qui, ai comitati e anche a USB per avere ovviamente organizzato questo evento molto importante. Secondo me appunto è importante sottolineare appunto questo collegamento, il collegamento tra i diritti dei lavoratori, quindi i diritti dei lavoratori socio-sanitari e le violazioni dei diritti delle persone anziane nell'RSA durante appunto la pandemia. In vista appunto di questo collegamento, quindi di come i diritti di lavoratori precari, come appunto le condizioni di lavoro precarie dei lavoratori abbiano poi avuto un impatto molto negativo proprio sulla sui diritti delle persone anziane e in particolare durante la pandemia. E dato appunto questo collegamento abbiamo, ci siamo ora focalizzati appunto sulla questione dei diritti di questi lavoratori in modo specifico. Il settore del, innanzitutto il settore socio-sanitario in Italia dal punto di vista delle condizioni lavorative è un settore come sapete molto problematico, quindi con delle criticità di lungo periodo e durante appunto la pandemia queste criticità si sono ancora di più peggiorate. Quindi un settore dove, come il compagno, il collega di USB ha menzionato, un settore dove è molto alta l'outsourcing. Quindi secondo i dati che noi abbiamo potuto raccogliere, più o meno il 75% del personale socio-sanitario nell'RSA non è impiegato, non è dipendente dalle strutture, quindi è impiegato da cooperative oppure a personale somministrato, oppure c'è anche un'alta percentuale di persone a partita IVA, quindi che sono considerati come personale indipendente, quindi un'alta percentuale di personale non dipendente. Questo appunto è problematico perché in questo settore appunto c'è una frammentazione contrattuale molto molto forte e le condizioni di lavoro in generale delle persone appunto dipendenti, quindi assunte in modo come dipendenti dalle strutture, è migliore solitamente delle condizioni di lavoro delle persone invece del personale somministrato oppure impiegato da cooperative. Quindi per questo appunto che la questione dell'outsourcing è una questione importante, come abbiamo detto. Un settore anche dove appunto le condizioni di lavoro sono molto precarie, ma anche le condizioni di retribuzione sono problematiche e normalmente la retribuzione qui nel settore socio-sanitario è molto più bassa della retribuzione, ad esempio, nel settore della sanità pubblica. Quindi è un settore appunto anche molto ad alta presenza femminile, come tutti i settori purtroppo sottopagati. Il settore socio-sanitario in Italia, come d'altronde anche in altri paesi europei, per il più dell'85% è a presenza femminile. E un settore in cui c'è sempre stata da molti anni una carenza di organico molto importante. Quindi addirittura l'Italia è il paese europeo con il minor numero di operatori sanitari e socio-sanitari per persona anziana in Europa. Quindi queste criticità del settore esistevano già prima della pandemia. Ovviamente in un contesto appunto di pandemia tutte queste criticità si sono aggravate e questo ovviamente ha avuto un impatto devastante sia sulle condizioni di sicurezza del lavoro dei lavoratori socio-sanitari, sia appunto sulle loro condizioni di lavoro e anche ovviamente sulle persone anziane che vivono nell'RSA. Ed è questo appunto che abbiamo cercato di spiegare in questo nuovo rapporto. Quindi in questo anno e mezzo, insomma, quasi due anni di pandemia ci sono stati sindacati, comitati, insomma tutta una dei gruppi dell'associazione civile che hanno cercato appunto di fare luce su queste, sulle criticità appunto del lavoratore nel settore socio-sanitario. Queste persone non sono state ascoltate ma come abbiamo detto appunto nell'ultimo rapporto sono state addirittura messe a tacere. Quindi questa è qualcosa che abbiamo appunto cercato di sottolineare il fatto che sindacati, lavoratori che hanno appunto cercato di denunciare le problematiche rispetto alle condizioni di lavoro, le problematiche rispetto alla condizione di sicurezza sul lavoro durante la pandemia purtroppo sono state in molti casi hanno ricevuto ritorsioni, abbiamo avuto casi di licenziamenti oppure casi di sospensione del lavoro, casi che anche voi appunto conoscete. Quindi il problema è che c'è anche un collegamento tra libertà di espressione, quindi la capacità appunto dei lavoratori di agire in capacità sindacale oppure diciamo di denunciare appunto problematicità sul posto di lavoro. C'è un collegamento fra questa libertà di espressione e anche appunto le condizioni poi di sicurezza sul lavoro. Quindi di solito più c'è libertà di espressione, più appunto la libertà sindacale garantita, migliore appunto sono le condizioni di sicurezza sul lavoro. Se le persone che denunciano criticità come ad esempio la mancanza di dispositivi di protezione individuale, se queste persone poi vengono o licenziate oppure vengono sospese eccetera, ovviamente questo porta appunto un impatto negativo sulla sicurezza del lavoro. E quindi abbiamo avuto, per il nostro rapporto abbiamo intervistato diciamo più o meno 35 persone e la maggior parte di queste persone hanno comunque, se non loro stesse hanno subito ripercussioni per appunto aver denunciato queste criticità, hanno comunque testimonia, sono stati testimoni appunto di queste ritorsioni e comunque ci hanno spiegato appunto un clima di ritorsioni, un clima di paura, quindi un clima in cui non hanno potuto diciamo liberamente pronunciarsi appunto sulle problematicità che esistevano rispetto appunto alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza sul lavoro che ovviamente poi ha avuto anche un impatto devastante sui diritti delle persone che invece vivevano, le persone anziane che vivevano nell'RSA. Quindi un problema molto grave di libertà di espressione, quindi nonostante appunto in Italia ci sia un quadro giuridico dal 2017, diciamo una cosiddetta legge sui whistleblowers, quindi sui lanciatori di allerta, che protegge appunto anche i lavoratori e i sindacalisti nella loro appunto nel loro tentativo di parlare, di denunciare appunto questi problemi molto importanti sul posto di lavoro, nonostante questo quadro legislativo esista. Durante appunto la pandemia abbiamo assistito appunto a tutti questi casi di ritorsioni, di licenziamenti e anche di attività antisindacali. Il problema appunto che il quadro appunto legislativo di protezione appunto dei lavoratori, di protezione della loro libertà di espressione è anche diverso rispetto al settore, quindi mentre nel settore pubblico ci sono appunto più garanzie e c'è un'autorità più indipendente che possa raccogliere le ripercussioni e le minacce contro i lavoratori che parlano appunto, che denunciano questi problemi, nel settore privato invece ci sono meno garanzie e quindi la procedura è più problematica. E nel contesto dell'RSA, come abbiamo detto, più o meno del 75% dell'RSA in Italia sono private, quindi un contesto appunto in cui la protezione, il quadro giuridico per proteggere appunto i lavoratori che denunciano criticità sul lavoro non è sufficiente. Questo appunto l'abbiamo poi spiegato anche nei dettagli in questo rapporto. Il problema poi è che a parte appunto il problema della libertà di espressione, i sindacati e i lavoratori hanno parlato appunto sia di denunciato situazioni sia di appunto di quindi mancanza di sicurezza sul posto di lavoro, quindi la questione diciamo ovviamente dei dispositivi di protezione individuale, ma anche appunto una questione molto legata all'outsourcing e alla mancanza di personale. Quindi situazioni in cui durante la pandemia, soprattutto le persone, i lavoratori, i sociosanitari impiegati con cooperative, quindi non dipendenti delle RSA, hanno diciamo, si sono descritte loro stesse spesso come tappabuchi, nel senso che hanno dovuto lavorare per diverse strutture in diversi reparti, sia reparti Covid sia reparti non Covid. Questo appunto, questa situazione è legata poi alla mancanza, collegata alla mancanza di dispositivi di protezione individuale, ovviamente ha contribuito a un numero di, a un tasso di mortalità e di morbidità altissimo sia tra le persone anziane ma anche tra i lavoratori. Quindi questo appunto è un problema di sicurezza sul lavoro che è stata denunciata a più riprese da OSB e anche da altri sindacati e appunto alcuni di questi sindacalisti, alcuni di questi lavoratori che hanno denunciato queste criticità sono stati messi a tacere, alcune volte addirittura con licenziamenti. Un'altra problematica invece che anche i sindacati e i lavoratori hanno sollevato è quella dei turni di lavoro che durante appunto la pandemia sono diventati appunto turni di lavoro massacranti. Questo soprattutto perché già appunto in un settore in cui c'era una mancanza di organico fondamentale prima della pandemia ma oltretutto durante la pandemia con le assunzioni straordinarie che sono avvenute nel settore della salute pubblica, molte persone appunto poi molti operatori sociosanitari e anche infermieri si sono poi, hanno deciso di quindi lavorare negli ospedali pubblici anche perché lì ovviamente le condizioni retributive, le condizioni di lavoro, i diritti dei lavoratori sono meglio garantiti. Quindi questo appunto ha fatto in modo che nell'RSA ci fosse ancora più mancanza di personale. Quindi il personale appunto che è rimasto nell'RSA ha dovuto fare turni più lunghi, spesso senza riposo e quindi tutta una sera appunto di condizioni di lavoro diventate in molti casi descritti dai lavoratori stessi e dai sindacati come insostenibili. Questa appunto a problematica è stata sollevata ripetutamente da sindacati, da lavoratori e come abbiamo detto questi lavoratori e questi sindacati sono stati, come abbiamo denunciato nel nostro rapporto, messi a tacere. Un altro punto molto importantissimo direi è quello menzionato da lei, da te, è quello delle ispezioni, quindi le ispezioni appunto del lavoro, quindi sia dell'ispettorato ma anche delle ASL. E quindi questo diciamo l'abbiamo sottolineato nel nostro rapporto. L'ispettorato del lavoro che ha quindi competenza esclusiva rispetto alla normativa laboristica per quanto riguarda l'ispezione, negli ultimi anni, quindi negli ultimi 3-4 anni, le ispezioni appunto sono diminuite in modo fondamentale. Quindi abbiamo un 80% in meno di ispezioni dal 2017 al 2020 e anche un 20% in meno di ispettori e ispettrici del lavoro. Quindi questo appunto è fondamentale da tenere presente perché quindi abbiamo un contesto di ispettorato del lavoro in cui non solo le ispezioni sono diminuite ma anche il personale ispettivo, la capacità ispettiva è diminuita. E questo appunto è importante perché l'ispettorato nel lavoro quando appunto molto spesso diciamo riscontra inadempienze sia nel settore socio-sanitario sia appunto nel contesto delle cooperative. Ad esempio nel 2020 abbiamo un 78% di inadempienze che l'ispettorato ha appunto trovato nelle ispezioni sulle cooperative. Cooperative che hanno un ruolo molto importante nel settore socio-sanitario, come appunto abbiamo detto. Quindi quando il nostro rapporto è stato pubblicato, anzi qualche giorno prima in realtà, l'ispettorato del lavoro ha annunciato un reclutamento, un nuovo reclutamento di più o meno mille ispettori. Ora la domanda è se questo è sufficiente, dato appunto il fatto che negli ultimi 3-4 anni gli ispettori siano diminuiti del 20%. Quindi la questione delle ispezioni è fondamentale, dopo questo che noi abbiamo poi sottolineato il fatto che comunque la capacità ispettiva deve necessariamente essere aumentata. Quindi questo è un punto chiave delle nostre raccomandazioni, a parte appunto poi la raccomandazione e la questione più fondamentale della commissione di inchiesta, quindi che è fondamentale per la verità e la giustizia e per questo ripasso la parola a Debora. Grazie. Per integrare sulla questione delle ispezioni, per fortuna ci ha pensato Brunetta che due giorni fa ha annunciato che non ci saranno più ispezioni a sorpresa, saranno preannunciate almeno 48 ore prima. Sì, no, solo due parole per dire che appunto come accennava il collega, una delle nostre raccomandazioni principali in realtà che già avevamo lanciato con il primo rapporto e che appunto è contestuale al lavoro che stanno facendo molti comitati di famiglie e non solo, è quella relativa alla richiesta dell'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare, che purtroppo ad oggi è l'unico meccanismo esistente in Italia per poter realmente investigare la commissione di inchiesta parlamentare, può avere dei poteri ispettivi molto simili a quelli delle autorità giudiziarie, è l'unico meccanismo che abbiamo oggi in Italia appunto per fare questo tipo di inchiesta, soprattutto in assenza di un'autorità nazionale indipendente sui diritti umani, di cui l'Italia avrebbe dovuto dotarsi già da svariati decenni, almeno dal 1993, quando si era preso questo impegno durante la conferenza di Vienna. Pertanto appunto abbiamo chiesto e anche sollecitato in varie occasioni a livello parlamentare che questa commissione di inchiesta avesse anche un focus specifico sulle RSA, proprio per il tributo altissimo che queste strutture hanno pagato e per tutte le criticità che sono state denunciate da noi e da tanti altri appunto durante nella gestione della pandemia. Questa commissione è fondamentale appunto che indaghi su quanto è avvenuto, che faccia luce sia sulle mancate misure di sicurezza e di salute nelle RSA, ma che faccia luce anche sulla mortalità, la morbilità all'interno delle strutture, sulle condizioni di lavoro che sono chiaramente, come abbiamo detto finora, legate a stretto giro con le condizioni e con appunto la salute delle persone che in queste strutture vivono. Le conclusioni di questa commissione parlamentare dovrebbero appunto aiutarci in qualche modo non solo a fare luce, a fare trasparenza e verità su quello che è avvenuto, ma aiutarci ad apprendere, aiutare le nostre autorità a livello nazionale, regionale e locale ad apprendere in qualche modo dagli errori commessi in passato per non ripeterli in futuro. Nei mesi passati ci sono state varie proposte di commissione d'inchiesta che sono state portate davanti al Parlamento, almeno quattro ne abbiamo segnalate, anche nel rapporto le menzioniamo. Purtroppo ad oggi solo una è arrivata in fase di discussione e quasi approvazione, perché è stata recentemente approvata dalla Commissione Affari Esteri e Affari Sociali e è una commissione d'inchiesta che però ha uno scopo soprattutto temporale decisamente limitato, perché è una commissione che terminerebbe il suo obiettivo d'inchiesta al 30 gennaio del 2020, quindi prima che il virus arrivasse in Italia e quindi non indagherebbe proprio sulla risposta delle nostre autorità italiane nella gestione appunto della pandemia. e questo evidentemente è uno scopo temporale e in termini di obiettivi della Commissione che è assolutamente insufficiente e questo stanno denunciando molti comitati appunto anche di parenti. Ci tengo a precisare, per quanto noi non facciamo mai in qualche modo confronti tra paesi che fanno meglio e paesi che fanno peggio in termini di diritti umani, però appunto come citavo nell'avvio abbiamo realizzato dei rapporti anche su altri paesi europei e è importante sottolineare come Belgio, Spagna e Inghilterra in qualche modo stiano facendo dei piccoli passi per quanto riguarda appunto l'accertamento se non altro di quanto è avvenuto e nella risposta alla pandemia. L'Inghilterra in particolare che ha avuto un impatto molto molto brutale della pandemia, soprattutto nelle strutture come citavo prima, il 40% dei morti dal mese di marzo al mese di giugno erano proprio ospiti delle RSA, ha già avviato varie commissioni, sono già stati pubblicati due rapporti, l'ultimo è un rapporto che è stato pubblicato nel mese di settembre da parte di una commissione parlamentare specifica, tematica, che ha dato una fotografia abbastanza critica della gestione delle autorità inglesi appunto della pandemia. Questo rapporto dice proprio esplicitamente che si è trattato del peggiore fallimento del sistema sanitario britannico di tutta la storia, quindi per quanto appunto le autorità abbiano probabilmente gestito in maniera molto poco positiva ecco la pandemia, è però importante che questi rapporti stanno vedendo la luce e quindi che c'è una sorta, un tentativo in qualche modo di fare, di dare, di fare trasparenza ai cittadini e alle cittadine su come questa pandemia è stata gestita. In Inghilterra è stato poi annunciato l'avvio di una commissione pubblica, di un'inchiesta pubblica che verrà appunto avviata nella primavera del 2022 e che per quanto sia molto tardi è sicuramente un passo importante. In Belgio invece nel mese di settembre sono state presentate le conclusioni, le raccomandazioni da parte della commissione parlamentare che aveva appunto indagato sulla risposta della pandemia sono state presentate di fronte al Parlamento, non era una commissione che aveva un focus specifico sulle RSA però ovviamente sono state riportate alcune raccomandazioni specifiche anche in Belgio rispetto alla gestione delle RSA, in particolare l'importanza di creare una migliore comunicazione tra settore ospedaliero e settore RSA perché appunto come dicevamo prima la deprioritizzazione del settore socio-sanitario è stata una caratteristica che non è stata una caratteristica specifica italiana ma appunto anche che ha toccato anche altri paesi. Quindi noi ci auguriamo e continuiamo a sollecitare le autorità italiane, il Parlamento a appunto avviare una commissione d'inchiesta che possa finalmente offrire un po' di chiarezza su quanto è avvenuto a livello nazionale. Ok, grazie. Adesso andiamo avanti in questo modo. Noi abbiamo invitato a partecipare tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo in questa vicenda. Abbiamo invitato l'assessorato regionale al welfare, abbiamo invitato il direttore generale di ATS, il direttore generale dell'ispettorato, cioè tutte le persone che oggi abbiamo citato sono state invitate a partecipare, così come il sindaco Sala, la giunta, i gruppi consigliati, abbiamo scritto a tutti. Quindi chi non è voluto, chi non c'è perché non ha voluto essere presente. Allora adesso io direi così, quindi tra le persone che abbiamo invitato ce ne sono molti che hanno avuto un ruolo fondamentale, importante, hanno risposto all'appello Vittorio Agnoletto che è presente, ma poi c'è anche Fumagalli che è consigliere regionale delle 5 Stelle, ci sono i presidenti di alcuni comitati, Bettenzoli del Comitato dei Parenti di Crema, Alessandro Azzoni di Felicità, Giafango Privitera rappresentanza di Anchise, poi c'è Roberto Fugazzi per Comitato Verità e Giustizia di Bergamo, Giorgio Cremaschi che con le sue dirette giornaliere ha tenuto insieme un po' i pezzi, poi c'è l'avvocato Savoldelli, tutte persone alle quali noi daremo la parola, tenendo conto che dobbiamo lasciare la sala alle 18, quindi io non do i tempi ma do questo codice di autodisciplina, sapendo che non ci possiamo far buttare fuori e do la parola a Vittorio Agnoletto che deve andare via ma è pure venuto senza occhiali, quindi... Mi scuso, sono uscito di corso e ho perso gli occhiali, quindi qualcuno non lo vedo e non offendetevi. Ho un tema importante ma però prima 4-5 cose che volevo dire. Primo, veramente ma veramente un ringraziamento enorme all'USB e all'Amnesty International per il lavoro che avete fatto, perché la memoria è sempre fondamentale, sempre. Secondo, un ringraziamento, ma qualcosa di più, un incoraggiamento e un invito a non cedere ai comitati, perché voi sapete che è passata la festa a Gabbattolo Santo, qui è passata la tragedia e si cerca di dimenticare tutto e questo non deve avvenire. Per quello che mi è possibile, 37.2, la trasmissione di Radio Popolare, sarà sempre al servizio di questa battaglia, vi abbiamo ospitato e continueremo a ospitarvi. A qualche punto procedo schematicamente per questioni di tempo. Prima la cosa più antipatica. Lo dico in punta di piedi, senza... Io sono... cioè voi fate il vostro mestiere ed è giusto che abbiate detto quello che avete detto alla fine. Io però vi devo dire che non ho nessuna fiducia nella commissione d'inchiesta. Vi devo dire che non ho nessuna fiducia nelle commissioni d'inchiesta parlamentare. Nessuna. Cioè sono storie passate che conoscete molto bene, qualcuno ha anche coinvolto faccende pubbliche, dati storici in cui sono stato coinvolto, ma... Penso alla vicenda del 2001, per essere chiari. Ma la cosa più grossa, la cosa più grossa è questa presa in giro pazzesca che sulla richiesta della commissione parlamentare fatta dai comitati familiari di Bergamo hanno detto facciamo la commissione parlamentare fino al 31 gennaio 2020, ma ci prendete per deficienti? Cioè che cosa volete andare a indagare? Siamo chiari, vi pagate a spese dei cittadini un bel viaggio in Cina, magari quando la pandemia è andata giù, è finito lì. E il meccanismo di non funzionamento delle commissioni d'inchiesta parlamentare, ribadisco non lo potete dire voi, lo capisco, ognuno ha il suo ruolo, è amplificato da una situazione in cui governano tutti e quindi nessuno va a pestare i piedi sull'altro. Su niente, su questo come sulla zona rossa. Se come sulla zona rossa poteva decidere tanto la regione e quando il governo, da una parte c'erano gli uni, dall'altra parte c'erano gli altri, si copre una vicenda. Quindi su questo purtroppo io non mi faccio, è giusto che voi soggetto internazionale, che quindi parlate con diversi paesi, lo chiediate, dovete chiederlo. Però tra di noi ci diciamo che la situazione è questa. Secondo punto. Io sono qui a testimoniare e a completare alcune cose che avete detto relativi a tutta la prima fase della pandemia. Io ricevevo perfino le telefonate la mattina quando accendevo il telefono, anche prima delle sette, addirittura alcune volte, in un paio di occasioni, da direttori dell'RSA, con coscienza, che mi hanno fatto chiedere, garantire di non dire no, ma ovviamente abbiamo la documentazione. Hanno chiamato, dicevano, siamo disperati, Regione non risponde, ATS non risponde, mi hanno chiesto tamponi e a certo punto mi hanno detto ma non ha dei medici da mandarci, perché non abbiamo medici, li abbiamo chiesti, perfino al commissario avevano chiesto. Allora, non si può stendere un velo su questa vicenda, non la deve stendere la Regione, ma non la deve stendere, qui ci sono responsabilità enormi. E si apre un problema che probabilmente c'è nella vostra relazione, non l'avete citato qui, una delle cose da chiedere è che l'RSA devono avere un servizio di medicina interno e non con medici esterni a partita IVA alcune ore, perché a un certo punto quelli hanno deciso che non andavano più e sono rimasti senza operatori interni, soprattutto parliamo dell'RSA. Questa è la prima questione, il secondo punto che volevo toccare è importantissimo. Terza questione, sulla base delle telefonate e delle interviste che facciamo a 37.2, confermo quello che dite, le circolari che prevedono l'apertura dell'RSA, il ricevimento dei parenti, 45 minuti e via dicendo, in diversi posti non sono rispettate, ma quello che è inaccettabile è che decide la singola direzione e per cui un cittadino non sa più assolutamente a chi rivolgersi. L'Ufficio del Difensore Civico Regionale una volta con una battuta mi ha detto che grazie all'attività di 37.2 hanno aumentato di un'unità il loro personale. Non dubito, noi facciamo scrivere al Difensore Civico Regionale e qualche volta Difensore Civico Cittadino che ha quel ruolo sull'RSA, perché intervengano, perché se no non si sblocca assolutamente. Quarto punto, qui c'è una responsabilità pazzesca in tutta questa vicenda della regione della delibera dell'8 marzo, perché quella delibera ha dato il via libera all'aumento delle persone positive all'interno delle strutture. Chi ha fatto quella delibera, a mio parere, si porta delle responsabilità per lo meno etiche e di conseguenza sui decessi assolutamente enormi. Poi sta alla magistratura a purare se ci sono altre responsabilità. E per favore non si venga a dire che nessuno era obbligato, perché siccome le RSA con chi hanno l'accreditamento? Hanno l'accreditamento con la Regione. È la Regione che decide se una struttura è accreditata o no. Se tu gli dici se ospitate questo, oltretutto vi pago di più se ospitate queste persone, loro sanno che hanno il rinnovo degli accreditamenti, che cosa volete che facciano? Cioè, cosa volete che facciano? No, perché c'è una responsabilità etica individuale e la possibilità di dire di no c'è sempre. Però la possibilità di pressione della Regione c'è e questo è assolutamente un altro aspetto che va visto. Ci sono responsabilità enormi anche in questo campo. E l'ultima cosa, il motivo principale per cui ho chiesto di poter dire, è su un argomento che mi ha procurato una querela da parte dell'ATS. Non si è ancora capita se mi ha querelato solo l'ATS o anche la Regione Lombardia, perché nel foglio che mi è arrivato c'è ATS Milano, Regione Lombardia, non c'è mezzo una virgola, non si capisce. Allora, poco prima di andare in stampa con il libro Senza Respiro, io vengo contattato da dei colleghi che mi passano una documentazione che analizziamo attentamente e io quando ho visto la documentazione, devo dire, non ci credevo a quello che c'era scritto. Allora, succede questo. Per evitare altre denunce, cerco di attenermi al testo. Lunedì 23 marzo 2020, siamo nel pieno della pandemia. E' scatto un'allarme da tutte le parti. Noi a 37.2 sulle nostre pagine Facebook abbiamo lanciato un appello, in quel periodo lì, che suonava un po' così. Diceva, i magistrati di Milano prendano l'iniziativa come hanno fatto nel 92, le altre procure li seguiranno. Perché nessuno aveva ancora aperto inchieste, no? Ma noi continuavamo a arrivare, segnalazioni, segnalazioni, questo è il clima. Il 23 marzo arriva una mail agli operatori PSAL, che sono quelli che citavi tu. Sono le unità operative complesse prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Cioè, è la medicina del lavoro, per dirla con parole semplici, servizio pubblico. Ok? Che erano impegnati nella gestione di una casella mail dedicata al mondo del lavoro sul Covid. Cioè, questi operatori avevano una casella postale dove gli arrivavano le segnalazioni dei lavoratori, dei delegati sindacali e dei responsabili della sicurezza. di tutte le aziende del territorio, ma tra le altre l'RSA. Perché le RSA sono comunque un ambito rattivo, un'azienda sul territorio, che segnalava quello che non funzionava. E quindi chiedeva a questo servizio della TS, no? Correggimi, di intervenire. Di intervenire, no? Nella mail citata si dà indicazione agli operatori PSAL di non rispondere più alle mail che arrivano nell'RSA, ma di passare tutto al MPC Malinf. MPC Malinf significa Medicina Preventiva delle Comunità Malattie Infettive. Cioè, un altro settore dell'ATS. La ragione che viene portata è quella di limitare la confusione, di evitare che troppi settori dell'ATS rispondano all'RSA. Siccome qualcuno c'è ancora che ha una sua dignità, alcuni operatori del servizio della medicina del lavoro reagiscono perché si sentono sottratti un lavoro che fa parte delle loro competenze. Dicono che vogliono continuare a svolgere quei lavori. Ma non c'è nulla da fare. E mentre i decessi aumentano, il virus continua a diffondersi nell'RSA e nelle strutture ospedaliere, alcuni medici e operatori dei PSAL, cioè della medicina del lavoro, che avrebbero dovuto andare a verificare che cosa sta accadendo, vengono messi smart working. Cioè, vengono lasciati a casa. Mi spiegate come fai a fare le ispezioni? Quindi ti tolgo un pezzo di competenza, ti dico per ora non farlo, e ti faccio stare a casa. Il 15 aprile, quindi dal 23 marzo siamo arrivati al 15 aprile, gli operatori PSAL, attraverso un'altra mail, vengano a sapere che gran parte della documentazione sottrattagli, relativa all'RSA, cioè che non se ne devono più occupare, è gestita non solo dal settore che citavo prima, ma anche e soprattutto dal PAPS. Cos'è questo PAPS? È il Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto, Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie dell'ATS. Cioè, dimmi se, se non sbaglio, è il Dipartimento che lavora sull'accredito dell'RSA. Quindi tu togli alla medicina del lavoro il compito, lo fai arrivare a un altro settore, e gli dici tu devi sorvegliare cosa succede nell'RSA, tu che non sei la medicina del lavoro, che non hai quelle competenze, ma che per di più sei quello che ha accreditato queste RSA. Questo è quello che avviene. Nel frattempo, il lavoro di sorveglianza viene svolto quasi unicamente questionari. Ora, non è che tutti in Italia aspettano solo il momento di finire in carcere, no? E quindi se uno gli arriva il questionario responsabile e deve dire come sta andando le cose, non è che dici mi mancano i tamponi, non ho i medici, non so dove sono i DPI, sto mischiando i pazienti, sto spostando il personale da una parte dell'altra, l'altro giorno ho detto a uno del personale di non usare la mascherina perché poteva spaventare... Cioè, queste cose non le dicono. O che la regione Lombardia non riusciva a fornire all'RSA i DPI... Esattamente, non le dicono, no? Perché ci tengono la loro vita. E questo è quello che fa la TS. Il 20 aprile arriva dai vertici dell'OPSA l'indicazione ai propri operatori di riattivare... 20 aprile, che avevano bloccato il 23 marzo, di riattivare la vigilanza presso l'RSA in seguita ad una richiesta fatta il 14 aprile dal prefetto. E gli dice, dovete riprendere. Perché si è mosso il prefetto! E gli dice, dovete riprendere. Solo che gli dice, gli operatori della medicina del lavoro devono fare questa cosa insieme agli operatori del PAPS, cioè a quelli addetti all'accreditamento. E non è finita. Il 23 aprile, nel pomeriggio, e per far capire che abbiamo in mano tutte le documentazioni non sono proprio fesso. Ho scritto, dopo le ore 15, perché abbiamo tutto, arriva una mail inviata, questa volta direttamente, dall'ATS di Milano ai responsabili di PSAL, PAPS e di IPS. E l'ATS di Milano ricorda, 23 aprile, come il giorno precedente, cioè il 22 aprile, fosse stato loro chiesto di eseguire quotidianamente sei visite ispettive, mentre non risulta che fino a quell'ora, nella giornata del 23 aprile, sia stata effettuata alcuna attività di sorvaglianza. Sono passate le 15 e l'ATS chiede di eseguire immediatamente le visite ispettive e di prevederne da quel momento in poi sei al giorno. È il 23 aprile, non è il 23 febbraio. E cosa che mi ha scioccato, gli operatori della medicina del lavoro dicono va bene, perché era quello che aspettavano, a due condizioni. Prima lo facciamo noi, non lo facciamo con gli altri colleghi che non c'entrano assolutamente niente. E secondo me, scioccante, dateci i dispositivi di protezione individuale e gli strumenti necessari. Cioè questi 23 aprile chiedono i dispositivi che dovrebbero essere sempre a disposizione, sempre, indipendentemente dalla pandemia, linee guida dell'OMS, linee guida del CDC di Atlanta rispetto alle misure di prevenzione da assumere. In più, sono passati due mesi del 23 febbraio e si vede che non ce li hanno. Se le chiedono. Allora, io faccio una domanda banale. Due domande banali. Primo, perché si è voluto esautorare i lavoratori della medicina del lavoro? Qualcuno me lo deve spiegare. Ma me lo deve spiegare veramente, non con le storie, se non quelli dell'RSA ricevono troppi messaggi e non sanno come rispondere. Perché a qualcuno è stato impedito di svolgere il suo lavoro previsto. Primo. Secondo, perché il settore che è stato incaricato si è limitato a mandare delle lettere o forse ha fatto una o due ispezioni ma ha lavorato praticamente tramite questionari e non ha utilizzato il personale che oltretutto c'era, quello dell'OPSAL, che era a casa e smart working. Perché? Perché se uno non risponde siamo legittimati a pensare qualunque cosa. Possiamo anche ragionare che forse qualcuno sapeva cosa stava succedendo nell'RSA ed era bene non andare a metterci dentro il naso tanto più che l'8 marzo avevano fatto quella delibera in cui i rischi stavano aumentando. E io mi chiedo ma vabbè mi hanno fatto la querela. Noi avevamo come medicina democratica fatto un esposto sui comportamenti della regione su vari punti tra cui c'era anche questo. So che qualcosa è partito da parte della magistratura che dei testimoni sono stati sentiti che si faccia un dibattimento pubblico in tribunale va benissimo ma io mi chiedo qui qualcuno deve rispondere di queste cose. Io credo che ci siano conseguenze enormi. Allora finisco su questo è stato detto l'avete detto tutti voi che mi avete preceduto che purtroppo l'RSA hanno fornito un contributo enorme al numero di morti in regione Lombardia. Io aggiungo solo questo la regione Lombardia ha raggiunto circa la cifra di 35 mila morti per pandemia. Siamo una delle regioni con la sanità più sviluppata tecnologicamente e via dicendo. Io credo di non dire nulla di sconvolgente affermando che i morti in Lombardia sono un combinato disposto tra l'azione del virus e l'azione o la non azione perché ci può essere l'azione e ci può essere la non azione fatta dalle istituzioni ed è responsabile. È difficile certo non mi arrischio a farlo a quantizzare in modo preciso quanti morti avrebbero potuto esserci meno se ci fosse stata la medicina territoriale se si fosse intervenuti nell'RSA come si doveva e via dicendo si possono fare degli studi mi auguro che qualcuno di Statistica Sanitaria faccia uno studio su questo ma parliamo di tanti tanti morti qualcuno dovrà rispondere di queste cose non può essere solo un dibattito una serie di dibatti trasmissioni radio e via dicendo e voglio ringraziare pubblicamente la giornalista di Rai News che ha fatto un servizio di 30 minuti su questa vicenda non so ancora se la querela è arrivata anche loro o no e l'ha fatta con Rai News anche se inizialmente lavorava in un'altra rete Rai ma lì non era possibile mandare in onda questo è passata a Rai News 24 e ha fatto un servizio perché credo che questo sia il ruolo di un servizio pubblico e mi auguro che se a Roma nel Parlamento le orecchie sono otturate e ci sentono poco che qui vicino ci ascolti almeno il Palazzo di Giustizia perché alla fine dobbiamo andare lì non possiamo non c'è modo altrimenti di ottenere giustizia grazie scusate se vi abbandono grazie a Vittorio che non ha deluso le aspettative allora tra gli iscritti a parlare do la parola a Marco Fumagalli che è stato promesso di essere breve dopodiché si prepara Alessandro Azzoni del Comitato Felicita grazie a tutti voi grazie per l'invito vi porterò via pochissimi minuti perché anche io ho un impegno ma come dire io faccio parte della commissione d'inchiesta di Regione Lombardia ovviamente tutto quello che è stato detto da Vittorio Pietro e da Amnesty è già stato inserito nella relazione di minoranza che ho scritto ho iniziato a scrivere e ho dato ai colleghi del PD proprio perché dobbiamo cercare quantomeno di lasciare quella che è una testimonianza purtroppo tutto quello che è stato detto soprattutto anche da Pietro in apertura non solo corrisponde alla verità ma è solo forse una minima parte io che la la vivo dall'interno devo dire che quello che il processo di privatizzazione di cui ha parlato oggettivamente ha determinato un arretramento non solo del sistema pubblico su quello privato ma un arretramento del sistema democratico in Regione Lombardia io in questo momento in qualità di consigliere regionale ho veramente difficoltà anche ad esprimermi nelle commissioni cioè mi tolgono la parola quando io porto avanti determinati atti che magari mi arrivano da qualcuno che c'è anche in sala da Pietro eccetera le risposte non arrivano c'è proprio la volontà di Regione Lombardia di boicottare ci sono anche atti intimidatori pesanti che mi sono capitati anche a me personalmente perché tutto questo perché ovviamente quello che è accaduto ha messo in luce che il sistema sanitario del Lombardo che si basava sulla privatizzazione prima voluta da Formigoni poi da Maroni e adesso con questa riforma che è veramente una cosa obbriosa ha voluto proprio esplicitamente dare in mano tutto al privato e la salute praticamente è stata accantonata e si fa solo esclusivamente per profitto lo si fa per profitto e per occupazione di posti di potere chiaramente tutto questo è stato messo in luce qualche d'uno lo sta capendo e evidentemente c'è una fortissima paura da parte di Regione Lombardia i direttori delle diversi ospedali o quello che sono che reagiscono in modo veramente rabbioso reagiscono in modo rabbioso perché oggettivamente iniziano a sentire io lo vivo in questi giorni in aula che stiamo discutendo la riforma c'è veramente nervosismo da parte di quelli della maggioranza perché veramente forse per la prima volta sentono che oggettivamente qualche cosa può cambiare con le prossime elezioni evidentemente e se cambia qualche cosa oggettivamente loro non sono nelle condizioni di cambiare perché la legge che stiamo andando a discutere non è la legge scritta da Fontana non è la legge scritta da Moratti perché tutte e due non la vogliono quella legge lì è la legge scritta dai poteri forti è la legge scritta da quelli che vogliono mettere le mani su 19 miliardi della sanità privata non gli interessa assolutamente nulla a loro di quello che sono stati morti di quello che sono stati i problemi dei lavoratori i problemi che sono stati che sono emersi oggi di tutto questo a loro non interessa assolutamente nulla la legge che stiamo discutendo uno schifo assoluto questo schifo qua nemmeno Fontana vi dico solo che ha proibito il voto segreto ha detto che non ci può essere il voto segreto hanno paura che qualche d'uno della maggioranza proprio impazzisca e magari provi anche ad approvare un solo dei nostri emendamenti non è tollerabile da parte loro perché non l'hanno scritta loro l'hanno scritta quelli che vogliono andare avanti con il sistema delle privatizzazioni che vogliono che il lavoro sia precarizzato che vogliono che i sindacati non facciano il loro mestiere che vogliono che il cittadino diventi un suddito e che il lavoratore lavori possibilmente con il meno dello stipendio possibile è questo quindi in questo momento non c'è in gioco la salute in questo momento c'è in gioco assolutamente la democrazia e i diritti di tutti noi non solo quelli di tutela della salute ma tutti i diritti civili in genere io vi ringrazio e vi dico solo che dobbiamo combattere perché questo governo regionale al prossimo giro deve essere mandato a casa grazie grazie Marco allora c'è Alessandro Alessandro Azzoni eccolo lì che rappresenta adesso abbiamo la voce a due comit... ecco Alessandro del comitato Felicita credo sia il comitato più grosso che si è costituito con il quale siamo entrati in relazione grazie per essere presenti grazie a voi per l'invito grazie ad Amnesty grazie a USB e grazie a tutte e tutti per essere qui sì noi io sono un familiare mia mamma era il più albergo Trivulso noi ci siamo costituiti prima come comitato verità e giustizia per il più albergo Trivulso poi visto che non era solo la struttura del Trivulso essere stata colpita ma tante altre RSA ci siamo fondati in associazione di rilevanza nazionale che raggruppa tanti comitati e tante RSA ora mi spiace che è andato via Vittorio perché proprio dalla dalla fine del suo intervento riparte il mio in quanto davvero questa vicenda per noi è una vicenda soprattutto di responsabilità eluse responsabilità anzitutto materiali e giuridiche ma anche politiche e morali rimbolsate da un'istituzione all'altra tale illusione è stata in qualche modo consacrata proprio nei giorni scorsi dal provvedimento della procura di Milano che come saprete ha chiesto l'archivazione del fascicolo iscritto a carico del dirigente della dirigenza del più albergo di Livulzio il dottor Calicchio e di molti altri fascicoli oltre 20 solo nel comune di Milano appunto fascicoli che sono stati aperti per i numerosi decessi all'interno della struttura di fatto la procura di Milano IPM dopo 18 mesi di indagine compiute hanno che hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti per andare a ribettamento chiedono di archiviare ora qual è dunque il quadro che emerge da questa richiesta di archiviazione andando a leggere le motivazioni dei PM milanesi emergono gravi e macroscopiche carenze nella gestione dell'epidemia da parte della dirigenza del Tribulzio a due mesi in marzo 2020 quindi a due mesi di distanza dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale le carenze hanno riguardato primariamente ma non solo la mancanza adozione anche delle più elementari misure atte a evitare o contenere il diffondersi del contagio all'interno della struttura quindi sapete che da subito il mainstream ha parlato di tsunami inaspettato o di mancanza di dispositivi ecco dalle indagini della guardia di finanze emerge che neanche le più basilari norme contro le epidemie sono state messe in atto emerge addirittura la sottovalutazione del rischio da parte della dirigenza e un atteggiamento almeno nel periodo iniziale parole dei PM guardate non dei parenti presi dalla crisi di nervi volte a nascondere e occultare le difficoltà piuttosto che a risolverle ecco il 22 di maggio ricorderete la manifestazione la prima manifestazione nazionale davanti al tribulso in cui noi chiedavamo un intervento immediato perché la situazione non era sotto controllo dall'interno hanno continuato ad assicurarci che andava tutto bene ecco oggi i PM milanesi hanno messo per iscritto che così non era atteggiamenti ustruzionisti come sapete nei confronti dei lavoratori della struttura addirittura verso chi osava adottare autonomamente le basiliari misure di prevenzione il divieto appunto imposto famoso diventato famoso grazie alle denunce anche dei giornali di indossare le mascherine fino a oltre 20 di marzo ecco tutte carenze gravi negligenze rilevate dai periti e confermate dalla stessa procura alla luce dell'indagine che tuttavia i pubblici ministeri non provano che tuttavia scusate per i pubblici ministeri non provano le rilevanze causali rispetto a quanto capitato all'interno della struttura ecco adesso qui poi bisognerebbe entrare nei meccanismi giuridici penali del nesso di causalità che purtroppo ha affossato molti processi storici sul lavoro ricordiamo per esempio l'amianto ovvero la necessità per il PM di tracciare il percorso del virus quindi loro a loro parere dovrebbero oltre ogni ragionevole dubbio provare da dove è entrato il virus qual è stata la sua strada per arrivare a contagiare rispondo a Deborah che si chiedeva prima sempre nella faccio un piccolo inciso sempre nella nelle motivazioni dei PM si parla i periti parlano dai 500 ai 1000 contagiati probabile su una struttura di 1300 persone lascio a voi la statistica praticamente quasi la totalità degli ospiti è stata contagiata orbene ridicevo i PM non potendo diciamo dimostrare ogni ragionevole ogni oltre ragionevole dubbio il percorso del virus si eludono sostanzialmente o sospendono il giudizio dicendo non si può andare avanti ecco in realtà molto di quello che è accaduto in questi 18 mesi di indagine andava in questa direzione quindi quella dell'eludere le responsabilità basti pensare e voglio ricordare alla strada chiaramente segnata dalla relazione della commissione ATS Lombardia richiamata anche dalla procura nella stessa archiviazione che attribuiva le responsabilità correlate alla gestione del contagio all'interno del PAT a cause contingenti interne o istituzionali esterne vi ricordo l'anno scorso in una tanto sbandierata conferenza stampa della commissione ATS che scaricava sostanzialmente le responsabilità verso i lavoratori assenteisti ecco non lavoratori che erano stati mandati a mani nude o a cui avevano magari vietato l'utilizzo dei DPI che si erano fortemente malati che sono stati i primi le prime vittime di questo disastro annunciato no siete lavoratori che sono stati accusati di assenteismo ecco siamo forse alla follia quindi come si può sostenere l'irrelevanza penale della mancata osservanza a monte di tutte le misure anche di quelle più basilari rispetto alle quali non si può evocare la manna della straordinarietà del caso o della limitatezza delle conoscenze appunto ricordiamoci lo tsunami inaspettato misure dicevo preposte proprio a evitare o contenere il rischio di danni connessi alla diffusione del virus e a salvaguardare tanto la vita di persone fragili affidate alla questione della struttura quanto la salute e la sicurezza sul luogo del lavoro del personale sanitario chi è quindi responsabile di questa strage di innocenti chiediamo oggi noi parenti rifiutiamo di non ricevere risposta a questa fondamentale domanda di giustizia non possiamo accettare che questa verità storica non passi attraverso il dovuto vaglio giuridico con la celebrazione di un processo volto a raggiungere anche una verità processuale che consenta di individuare le responsabilità individuali connesse a quanto accaduto l'archiviazione del procedimento rappresenterebbe un fallimento della ricerca della verità e sancierebbe l'ingiustizia del sistema giuridico italiano che in questo momento avrebbe bisogno di recuperare fiducia nei cittadini e forse non solo i parenti delle vittime ma nessun cittadino può accettare che i responsabili restino invisibili o quantomeno che non si faccia tutto quanto è doveroso fare per l'accertamento delle responsabilità il diritto penale è del resto un imprescindibile strumento attraverso il quale realizzare quel necessario percorso di verità volto a individuare i responsabili e impedire che in futuro possa ripetersi di nuovo questa tragedia l'opposizione che felicita i parenti hanno proposto in questi giorni hanno depositato venerdì scorso davanti al GIP alla richiesta di archiviazione della procura rappresenta dunque una sfida e un'opportunità per interrogarci tutti e per cercare risposte certe in relazione alle evidenti lacune di una giustizia che sembra inerme e una strumenti efficaci e condivisi per porsi dalla parte delle vittime certe in quanto la garanzia si applica alla fine solo a chi è accusato un percorso che intendiamo seguire fino in fondo il diritto alla tutela della vita e della salute garantito dalla Costituzione e che in questa vicenda è stato negato alla popolazione più fragile gli anziani pone sul tavolo del sistema politico legislativo e giudiziario la necessità di garantire il dovere e obbligo del sistema sanitario assistenziale di impiegare strumenti adeguati a un compito delicato in quanto rivolto a una popolazione particolarmente fragile e di sanzionare il mancato rispetto delle norme da parte dei responsabili e su questo fronte Felicita continuerà la sua battaglia sia culturale che sul campo di giustizia non solo questo è il primo passo per interrogarci e trovare risposte soddisfacenti in ordine alla necessità di una trasformazione culturale etico politica che veda il futuro dell'RSA non come strutture dove un'assistenza carente è comunque sufficiente in quanto rivolta a persone considerate marginali ma luoghi dove vige invece il criterio obbligato della cura eccedente necessaria per proteggere gli anziani nostra radice e nostra ricchezza un cambiamento di paradigma da parte delle strutture e delle istituzioni che costituerebbe un modo per tradurre ora le responsabilità derivate dal potere ricevuto in una costruttiva progettazione e nella pianificazione trasparente di un sistema di cura a misura della fragilità e in difesa della popolazione anziana vado a chiudere perché avrei tante cose da dire ma devo lasciare lo spazio anche a chi mi segue volevo darvi semplicemente dalle motivazioni della richiesta di archiviazione della procura vado per punti sintetico ribadisco la procura non dice di non aver trovato i gravi reati denunciati dai media dalle associazioni dai comitati dice che non può procedere perché ha paura di non arrivare in fondo a questo processo ecco io ho preso solo i punti rilevanti in quanto a sicurezza sul lavoro che la procura ha messo per iscritto sono stati i reati che sono stati commessi dalla dirigenza del PAT per estrema sintesi l'attività investigativa ha verificato l'oggettiva violazione da parte del PAT di molteplici regole cautelari volte a ridurre i rischi di contagio da agenti patogeni le obblighi della legge dell'81-2008 sappiamo tutti allora ha rilevato il tardivo e inadeguato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi sapete il DVR ecco non era completo quello del più albergo Trivulzio e gli aggiornamenti pensate sono stati fatti in corso d'opera il 25 il 23 di marzo quindi quando l'incendio era in corso faccio il corso ai lavoratori per il rischio biologico l'inadeguatezza delle misure organizzative adottate dalla direzione la mancanza di organizzazione del personale tra i reparti diciamo che i tecnici dei PM ci raccontano di personale al più informato anziché formato ok la non corretta gestione dei DPI e sappiamo ci sono mail agli atti del dirigente che il 23 di marzo ancora negava e vietava l'utilizzo dei DPI e la non adeguata formazione del personale quindi informati al più informati ma mai formati ecco questa è una informazione piuttosto interessante i PM attestano come gli operatori con minore formazione di base quindi AS e OS e con maggior contatto con gli ospiti pazienti quindi quelli messi più esposti più a rischio siano anche quelli con la percentuale maggiore di positività al tampone quindi allo stesso tempo i lavoratori e le lavoratrici che avrebbero avuto bisogno di maggior formazione erano quelli che erano stati meno formati più a rischio e infatti a maggior tuttora le conclusioni una pluralità di violazioni della norma in materia di salute e sicurezza che la IPM che nonostante queste i PM milanesi chiedono l'archiviazione ecco noi abbiamo fatto opposizione richiedendo al GIP l'imputazione coatta del della struttura del dirigente della dottoressa velleca e dei sodali in conclusione dico davvero i tecnici nominati dalla procura concludono che con questa frase che per me è enigmatica l'adozione tempestiva di queste misure avrebbe con ogni vero somiglianza limitato la diffusione del contagio ecco allora la domanda con cui ha chiuso anche Vittorio Agnoletto è anche la nostra quanti morti si sarebbero potuti evitare se ci fosse stata una risposta adeguata all'epidemia nella gestione e nell'organizzazione delle strutture ecco noi non ci accontentiamo di eludere la giustizia ma siamo determinati a cercarne i responsabili perché questo non accada più e vi ringrazio scusate la lunghezza grazie Alessandro diciamo si è preso un po' di tempo in più ma questa vicenda del Tribunale di Milano e della risposta alla procura è molto importante perché rischia di tracciare la strada anche per tutti gli altri esposti e sono e sono tanti allora abbiamo ancora quattro interventi e quindi abbiamo pochissimo tempo e vi chiedo di vi chiedo di quindi essere molto molto veloci quindi lo segno quindi c'è un altro intervento di più ah sì 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 è già segnato è già segnato ok allora direi in quest'ordine Cremaschi Bettenzoli Privitera direi che si chiude con l'avvocato Savoldelli che si è occupato attraverso anche per medicina democratica di chiudere degli esposti che sono stati presentati e quindi ci darà il punto di vista penale poi vedremo di dire due parole di Chiosa quindi invito tutti veramente all'estrema sintesi sarò telegrafico cercando di essere il più possibile anche a costo di essere magari diciamo non impreciso ma un po' tagliato con l'accetta innanzitutto voglio ringraziare Pietro per l'invito ma voglio anche sottolineare anch'io come ha fatto Vittorio Agnionetto l'importanza del lavoro dell'USB e di Amnesty su questo tema e qui però c'è un primo punto perché adesso uno fuori di qui dice Amnesty ma Amnesty si occupa dei diritti umani dei perseguitati di quelli nei lager e qui cosa c'entra Amnesty e questo è un tema secondo me di fondo cioè noi dobbiamo capire che nelle nostre società nella nostra società in particolare nelle nostre società ricchissime la questione dei diritti umani è una questione che non è più solo quello vado in galera per le mie opinioni anche se qualcuno ci va ancora ma vado ma sono mi sono negati diritti fondamentali qui venivano enunciati alla salute alla vita alla sicurezza alla libertà nel lavoro oggi si urla tanto anche stasera qui vicino libertà libertà ma la negazione prima della libertà è la libertà che ha il lavoratore di poter dire quello che pensa del suo lavoro perché se il lavoratore con la minaccia del licenziamento delle ritorsioni con il precariato gli si dice tu stai zitto se no perdi il lavoro lì hai violato i fondamentali dei diritti umani hai violato la nostra costituzione d'altra parte anche l'ONU mi pare se ne stia rendendo conto perché c'è un recente rapporto delle Nazioni Unite che parla dell'Italia in termini di diritti umani riferendosi al dilagare del caporalato e della violazione dei fondamentali diritti dei lavoratori nei campi ma non solo nei campi anche in tanti servizi sulla base di un sistema che ormai è un sistema criminale di ricatto del lavoro ecco qui c'è un punto cioè quando dov'è che c'è il confine tra semplicemente la ricerca del profitto e il crimine secondo Brecht questo confine non c'era però diciamo pure per chi è un po' più moderato di Bertolt Brecht in ogni caso qui siamo di fronte al fatto che c'è sicuramente un'area in cui la ricerca del profitto e il crimine coincidono profondamente e qui abbiamo un caso che voi avete giustamente denunciato quello dell'RSA che è una specie di tempesta perfetta perché in questa tempesta perfetta si sono incrociati tre grandi processi di distruzione dei diritti la privatizzazione della sanità e dei servizi sociali di cui appunto veniva ricordato che adesso c'è un altro passaggio perché la riforma di Letizia Moratti invece che andare nella direzione di mettere in discussione il sistema che prima ne accentua tutti gli aspetti privatistici e di speculazione la privatizzazione della sanità peraltro contenuta anche nel PNRR che quel pochi soldi che dà la sanità in realtà li dà spargendosi a tappeto sul sistema dell'imprenditoria sanitaria privata secondo appunto l'operazione di privatizzazione degli servizi sociali dei servizi sociali di cui qui avete dato i dati impressionanti io non li conoscevo così in questa dimensione cioè la distruzione di un servizio pubblico che poi dovrebbe essere un servizio sociale collettivo poi dovremmo anche discutere a un certo punto se è solo un problema di servizio di vita collettiva il fatto che noi gli anziani li confiniamo a un certo punto in queste strutture perché siamo costretti per il tipo di lavoro che facciamo per il tipo di vita che facciamo a non occuparcene ma diciamo intanto dovrebbero essere appunto strutture pubbliche legate a un sistema di vita più dignitoso invece diventano sedi di profitto e infine il terzo punto dopo i tagli alla sanità e la privatizzazione dei servizi la precarizzazione del lavoro si incrociano queste tre cose e queste tre cose assieme producono la miscela velenosa che aggrava la pandemia dentro l'RSA e diventano il terreno di cultura nel quale si espande e dilaga il virus questo è il punto su cui la denuncia non può fermarsi e deve andare avanti io lo so che non è semplice perché siamo di fronte a una gigantesca rimozione anche gli Novax che manifestano sono parte di questa gigantesca rimozione cioè della pandemia e di come si reagisce alla pandemia anzi io ho l'impressione che purtroppo prima Pietro che è un amico ha partecipato anche lui oltre che un compagno a qualcuna delle mie dirette un po' disperate che facevo nei mesi terribili dell'anno scorso marzo e aprile e devo dire che la cosa che facevamo allora non era certo di dire non è così grave ma di dire l'ottrario è gravissimo e voi non state facendo le cose adeguate io ricordo perché mio genero è medico di base a Brescia e quindi abbiamo vissuto direttamente diciamo l'impatto nei primi giorni di marzo di questa valanga che arrivava addosso e i medici di territoriali non sapevano niente io mi ha fatto vedere le sue chat nei quali i medici dicevano qui arrivano persone ma io dice uno mi ricordo ancora uno che diceva anch'io pensavo vedendo la televisione che fosse una semplice influenza non è così perché questo è il messaggio vero che era stato dato vogliamo ricordarlo il sindaco che non è venuto che il 27 febbraio diceva Milano non si ferma vogliamo ricordare le complicità vaste alla disattenzione in nome di una sola questione non si possono fermare gli affari non si può fermare la catena del profitto perché questa è la questione la catena del profitto è stata anteposta ai diritti alla salute alla vita delle persone e viene ancora oggi riproposto perché per fortuna c'è il vaccino perché se non ci fosse il vaccino al di là degli stupidi che manifestano noi oggi saremmo di fronte a una condizione in cui la quinta ondata probabilmente farebbe più vittime ancora delle altre perché tutto il sistema di contorno non è stato fatto niente questa è la ragione per cui noi oggi dobbiamo dire non si dimentica non solo per una ragione sacrosanta di giustizia ma perché si stanno esattamente rifacendo in peggio tutti gli errori e tutte le scelte sbagliate che ci hanno portato alla strage oggi c'è il vaccino per fortuna ma il vaccino da solo come dimostra la Gran Bretagna come dimostra mezza Europa serve e va difeso ma non basta se il vaccino non si accompagna a un sistema sanitario pubblico che ricostruisce come priorità la tutela della persona della salute dei diritti e non la ricerca del profitto dell'efficienza noi avremo certo ancora magari avremo altri vaccini ancora più efficaci ma prima o poi di fronte al cambiare del sistema ed è allo spillover del sistema del nostro sistema mondiale di fronte a questo noi potremo ricadere con un altro virus nelle stesse condizioni e non sarà un complotto come dicono i Novax è semplicemente l'incapacità di un sistema fondato sul profitto di occuparsi della salute delle persone per questo grazie e avanti davvero allora invito Bettenzoli e Privitera a prendere posto nel frattempo l'avvocamento lo sa comodo se vuoi dire ha detto vuole fare un piccolo inciso io vi lascio il posto buongiorno io ho seguito sono Fabio Savoldelli faccio l'avvocato penalista a Milano ho seguito e scritto diversi esposti per anche per USB anche per USB in questo periodo con i quali sono esposti abbiamo provato a sollevare la questione che la responsabilità non era da ravvisare unicamente nella dirigenza dell'RSA per quanto gravi e abbastanza solari devo dire ma c'era una questione più estesa che riguardava un nodo politico possiamo dire politico ma che però aveva un'influenza evidentemente giudiziare sarò telegrafico ma lo sarò veramente questo lo dico perché è necessario veramente stabilire dei punti oggettivi attorno ai quali almeno con i miei esposti ho provato a sollecitare una riflessione della Procura della Repubblica rispetto al fatto che da parte di Regione Lombardia c'è stato un comportamento davvero che ha avuto un'influenza causale si parlava di causalità poco fa il Comitato Felicit riferiva di questo richiesto di archiviazione che io non ho non posso commentare purtroppo perché non ho seguito casi al Trivulzio avessi potuto leggerla l'avrei discussa con voi volentieri rispetto al tema della causalità e alla mancanza di conoscenza però del SARS-CoV-2 evidentemente era un virus nuovo e nessuno poteva sapere di cosa si trattava è vero anche che però veniamo da 20 anni prima c'erano già state due pandemie no due epidemie di influenza aviaria molto importanti intorno a quelli la comunità scientifica aveva stabilito dei paletti e delle misure da dover adottare laddove si fossero presentate le pandemie quindi non è del tutto corretto dire che c'era mancanza di conoscenza conoscenza c'era ed era anche documentata questi documenti questo aspetto oggettivo che vorrei portare alla vostra attenzione veramente telegraficamente parte dal 2002 il piano italiano multifase per una pandemia influenzale nel quale si recava proprio la premessa la comparsa di un nuovo ceppo influenzale verso cui la maggioranza della popolazione risulta suscettibile si pensa possa avere conseguenze paragonabili alla pandemia spagnola del 1918 con costi senza precedenti in termini di morbosità e mortalità sulla base di questo venivano poi diramate delle linee guida in cui si stabiliva che i medici di famiglia costituiscono uno degli elementi fondamentali della rete assistenziale che dovrà costituirsi per garantire una efficace assistenza alla popolazione in caso di pandemia qui si parla già quindi di 15 anni prima che arrivasse la pandemia che ci ha coinvolto in questi due anni arrivata poi l'influenza aviaria l'H5N1 l'OMS di rama delle direttive sulla base delle quali l'Italia a suo modo adotta delle linee guida queste linee guida sono veramente significative rispetto alle esigenze che poi abbiamo avvertito tutti come impellenti le carenze che avevamo di ogni tipo di strumento a fronteggiare la pandemia si rilevava in queste linee guida che da quando i focolai di influenza aviaria di H5N1 sono divenuti endemici è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale quindi si stabiliva la necessità per le regioni di stimare il fabbisogno di DPI e di kit diagnostici per fronteggiare la pandemia recepire i protocolli di utilizzo dei DPI per le categorie professionali a rischio abbiamo visto che lavoravano tutti gli operatori sanitari con delle tele che erano penose solo a guardarsi censire la disponibilità ordinaria e straordinaria di strutture di ricovero incluso il censimento delle strutture con apparecchi per la respirazione assistita ok oltre all'assunzione di medici di medicina generale quindi queste sono le premesse che hanno scatenato la pandemia ora la pandemia se vogliamo dirla in termini forse non scientifici ma in termini possiamo dire anche politici abbiamo cominciato a produrre danni ben prima che si manifestasse il virus perché se avessimo adottato queste misure che erano note sulla base di influenze di un altro tipo è vero che nessuno poteva aspettarsi il SARS-CoV-2 è vero che è un virus nuovo ma è vero che se ci fossimo attrezzati per fronteggiare le pandemie le epidemie già manifestate 20 anni prima questo tipo di catastrofe l'avremmo quantomeno potuta contenere diversamente quindi sulla questione della limitata conoscenza mi sono espresso mi dispiace non aver potuto leggere il provvedimento della richiesta di archiviazione io mi auguro veramente che di tutti gli esposti procedimenti penali qualcuno apra un varco perché non è possibile che tutti questi procedimenti vengano archiviati sarebbe una vergogna per tutto il sistema giudiziario italiano grazie buongiorno prego Gianfranco Privitera del comitato di parenti anch'iso un altro comitato molto importante che a livello nazionale sta facendo un lavoro importante per la verità e la giustizia allora noi siamo un comitato di familiari di ospiti delle residenze sanitarie sia per anziani che per disabili e io personalmente ho vissuto l'esperienza come parente figlio di una signora che fino all'età di 93 anni è riuscita a rimanere in casa con l'aiuto dei parenti e con le badanti eccetera e che poi invece con grande difficoltà dopo che si è rotta il femoro si è dovuta mettere in una struttura si pensava per un periodo limitato per fare la riabilitazione poi è scoppiato il covid e quindi diciamo che due mesi prima è entrato poi è scoppiato il covid e non è più uscita qui faccio una prima appunto rispetto alle cose che sono state dette e cioè che di quelle io ho avuto direttamente l'esperienza di due di quelle sette strutture che sono rimaste pubbliche allora io non riesco a vedere nessuna differenza rispetto al trattamento e rispetto alla diciamo così apertura verso i parenti rispetto alle strutture private questo lo dico perché avendo avuto esperienza di entrambe avendo avuto esperienza di entrambe avendo fatto anche delle ricerche in altre strutture delle varie delle varie dei vari business privati non ho notato grande differenza anzi un altro punto che che vorrei toccare relativamente a quello che è stato detto è relativamente alla missione di Amnesty è quello dei diritti negati allora qui si è parlato di ritorsioni nei confronti dei lavoratori ci sono degli elementi abbiamo letto sui giornali voglio far presente che le ritorsioni ci sono state nei confronti dei parenti dei parenti allora chi semplicemente chiedeva notizie io quando all'indomani del marzo dello scoppio della chiusura dell'RSA ho fatto una petizione su change.org che ha raccolto 70.000 firme ed era diretta al ministro della sanità il ministro della sanità ha risposto dopo circa 3-4 mesi non direttamente ma tramite la segretaria di una segretaria di una segretaria zitto e buono lasciaci lavorare cioè ha detto stiamo facendo tutto il necessario la stessa cosa ha risposto a una richiesta educatissima mandata via PEC il direttore di una struttura sanitaria pubblica in cui era ricoverata mia madre cioè stiamo facendo tutto il necessario però nessuno mai ha detto in maniera dettagliata che cosa si faceva e che cosa non si faceva era il periodo appunto in cui si leggeva che chi metteva la mascherina veniva dissuaso per non spaventare gli ospiti e così via quindi sul discorso delle delle intimidazioni e delle ritorsioni chiunque abbia osato in un certo periodo dire quello che dicono tutti adesso e cioè che la presenza dei familiari è indispensabile non solo per la compagnia ma per la riabilitazione e il mantenimento fisico e morale spirituale degli ospiti chiunque dicesse queste cose e chiunque dicesse chiunque dicesse che una condizione di assenza di visite dei familiari portava a uno stato simile a quello della reclusione io feci a suo tempo una lettera repubblica per ringraziare del loro interessamento sul problema usai un termine abbastanza forte fui sostanzialmente immediatamente di risparmio e partì come è avvenuta la cosa perché è veramente pazzesca mi si impose in pieno luglio di portare via mia madre dalla struttura perché era venuto a mancare il rapporto di fiducia cosa che non sta in piedi perché il rapporto di fiducia è tra il cliente e il datore del servizio non può essere il datore del servizio dire al cliente manca il rapporto di fiducia quindi mi imposero di portarla via in una settimana ho resistito e ora mia madre da un'altra parte dove sta meglio una struttura più piccola comunque quello che credo si debba fare a parte oltre all'iniziativa di Felicita quello di andare a fondo su questa archiviazione incomprensibile c'è un altro particolare che Azzoni non ha ricordato nel suo lungo speech ed è che a un certo punto nel se non sbaglio perché l'ho letto sui giornali tra un responsabile e la direzione si domanda che cosa dobbiamo scrivere sul certificato di morte quando si sapeva che insomma si dava per scontato che fosse covid e lì si disse non so una cosa tipo smesso di respirare oppure non so cosa accardire allora queste cose qui sono quindi benissimo un'iniziativa di Felicita a suo tempo ho firmato anch'io quell'esposto credo che ci debbano essere delle iniziative e su questo chiedo la collaborazione di quelle strutture come medicina democratica e amnesty perché per le quali ho la massima stima e fiducia alle quali chiedo non solo di fare ricerca e filosofia ma anche di sostenere con i loro con le loro strutture diciamo così di indagine di difesa legale eccetera eccetera perché i comitati nei prossimi giorni faranno delle iniziative pubbliche perché non si dimentichi cioè ci saranno delle iniziative in cui si dirà noi siamo ancora qui i problemi ci sono ancora gli ingressi vengono centellinati ma soprattutto adesso sarò velocissimo su quest'ultima parte noi avevamo come comitato un incontro con la commissione sanità della regione lombardia intendevamo presentare una serie di punti di richieste e questo incontro è stato annullato pochi giorni prima cioè ci è stato annullato in questo in questo incontro noi avremmo chiesto e ci sarà modo credo di ripresentarlo in un prossimo colloquio che speriamo di avere noi chiedevamo che da parte dell'ATS o comunque da parte di qualcuno che prenda questa responsabilità vengano stilati dei criteri omogenei per la gestione degli ingressi e soprattutto per conoscere i livelli di servizio all'interno dell'RSA perché vedete fino a quando si poteva entrare in queste strutture bene o male cioè io andavo a dar da mangiare alternandomi con la badante a mia madre a mio padre eccetera eccetera e intanto che si faceva questo si vedeva anche cosa succedeva ora non è più possibile perché noi entriamo mezz'ora ogni tanto entriamo mezz'ora ogni tanto quindi noi non vediamo com'è organizzata la vita dei nostri cari e quindi noi chiediamo ai responsabili di dire quali sono i criteri omogenei per per gestire ingressi e livelli di servizio vogliamo sapere quante persone ci sono quanti addetti ci sono all'interno delle singole strutture in modo da stabilire il rapporto ottimale tra ospite e chi li assiste anche perché abbiamo visto e lo vogliamo sapere noi dei nostri genitori dei nostri zii eccetera perché purtroppo quei controlli li dovrebbe far qualcuno ci dovrebbe dire il livello di servizio è garantito e invece come ci avete detto voi non lo fa nessuno non lo fa nessuno quindi noi lo vogliamo sapere e non c'è motivo per cui non ci sia trasparenza su questo fatto qual è il problema cioè noi mettiamo i nostri cari all'interno di queste strutture quando proprio non ne possiamo più quando non possiamo farne a meno perché per il loro benessere è meglio che stiano lì ma non intendiamo metterli in prigione non intendiamo metterli in un posto dove non sappiamo se c'è sufficiente personale se gli danno da mangiare eccetera quindi quello che chiediamo è di stabilire dei criteri omogenei questa è la nostra battaglia grazie ci metto due minuti perché ovviamente richiederebbe molto più tempo il nostro è un comitato che è nato fra i parenti di 140 ospiti deceduti io avevo lo zio che per me era un padre il fratello di mia madre che è deceduto il 4 aprile del 2020 e ho per fortuna viva una suocera di 96 anni in un'altra struttura a Trigolo la riflessione di Cremaschi secondo me andrà ripresa e ampliata sul fatto che gli anziani non devono essere messi nel futuro in queste mastodontiche strutture questo è un problema che dovremo affrontare ma seriamente di riflessione noi non abbiamo bisogno di costruire delle anticamere della morte abbiamo bisogno che la dignità delle persone anziane fino all'ultimo minuto fino all'ultimo respiro sia sacrosanta e rispettata da tutti per cui è da rivedere la logica di queste grandi strutture giusto che siano pubbliche ma che siano anche a dimensioni umane pubbliche e sociali a dimensione umana due cose rapidissime sul nostro comitato l'ho già detto sono morte 140 persone in una struttura di 350 credo che siamo fra i primi in Lombardia come percentuale nella provincia di Cremona nel volantino che ve l'ho dato prima i decessi avvenuti l'anno scorso in 4 mesi in soli 4 mesi sono stati 1.214 ma la provincia di Cremona conta 360.000 abitanti è chiaro 1.214 nelle RSA perché io sono convinto che il calcolo di 10.000 è per difetto perché se in una provincia di 360.000 abitanti sono morte 1.214 persone nelle RSA è chiaro che probabilmente pensiamo la provincia di Milano la sua dimensione lo stimiamo 13.000 pensiamo l'altro elemento perché devo stringere l'amico di Anchise ha dimenticato una cosa importante perché anche noi ci saremo il 27 novembre saremo davanti al Pio Albergo Tribulzio i comitati dei familiari Anchise i comitati anche il nostro comitato sarà lì presente a protestare e a ricordare e a chiedere verità e giustizia non sono il Presidente il Presidente non ne ha conosciuto ecco perché si però diciamolo perché è importante che USB io milito in USB dalla sua nascita sono iscritto ad Amnesty e sono iscritto anche a Felicita per cui sono e sono membro del comitato c'è dentro tutto l'ultimissima cosa perché in pochi minuti è difficile il vostro lavoro è importante però vi voglio dire una cosa tutte le ATS hanno fatto gli studi epidemiologici vi ho dato lo trovi in quella cartella lo studio epidemiologico del Dottor Paolo Ricci per la provincia di Cremona era un medico era un medico ATS perché se l'è andato prepensionato schifato perché il suo studio epidemiologico fatto da un pool di medici è stato preso dall'ATS Regione Lombardia e messo 227esimo cassetto del direttore generale ovviamente non lo si trovava più allora a quel punto lui l'ha fatto uscire sulla rivista degli epidemiologi italiani a dicembre di questa a dicembre 2021 perché lo studio non veniva reso noto perché lo studio evidenziava cosa era successo nell'RSA ecco io credo che abbiamo il diritto sacrosanto e finisco di chiedere a tutte le ATS della Lombardia perché lo studio l'hanno fatto lo hanno messo nel a secondo del palazzo in cui sei può essere al 227esimo cassetto oppure al 2227esimo perché se vai al pirellone scendi ancora di più però ci sono gli studi e il dottor Paolo Ricci ne è la testimonianza ha denunciato pubblicamente sui giornali la cosa ha mandato lo studio sulla rivista dei medici epidemiologi e poi se ne è andato in meritata pensione questo studio ci permette di avere i numeri veri non quelli che vengono raccontati la strage che è avvenuta nelle case di riposo noi abbiamo manifestato davanti al tribunale di Cremona abbiamo presentato esposti come comitato e come persone e come persone io sono stato sentito dai nas perché la procura furia di rompergli i coglioni scusate bisogna essere molto chiari bisogna mettere le braci sotto i testicoli dei magistrati la procura ha dato mandato ai nas di sentirci perché rompevamo le palle sui giornali e quant'altro siamo stati sentiti io il 14 di agosto forse pensavano che andavo in ferie ma sarei tornato anche dalla Sardegna nel caso io il 14 di agosto sono stato sentito dai nas di Cremona però è importante sapere che se creiamo un forte movimento d'opinione per cui i comitati hanno questa funzione l'USB Amnesty medicina democratica tutto quello che possiamo mettere insieme un forte perché non è possibile che questa strage degli innocenti venga derubricata a una semplice influenza di massa grazie scusate noi abbiamo guarda abbiamo sforato proprio i tempi abbiamo sforato devono chiudere mi raccomando roberto velocissimo almeno facciamo le conclusioni prima che la io sono del comitato popolare verità e giustizia di Bergamo avrei voluto raccontarvi come è nato il focolaio ad Alzane e quant'altro zona rossa non ne parlo vi dico solo che il 23 febbraio che è la data che è iniziato il focolaio in Vassariana in Australia e in Alzano faremo un evento spero nazionale con i parenti e le vittime con i lavoratori e tutto perché Alzano non dimentica grazie Alberto allora io direi di concludere con una con una proposta innanzitutto ci ha fatto piacere il fatto che siamo riusciti a mettere attorno alla questione dei diritti tutti i soggetti interessati a sta cosa c'erano i lavoratori c'erano i comitati c'erano i sindacati allora probabilmente bisogna provare sul piano regionale a costruire una sorta di consulta che metta assieme tutti questi pezzi che oggi hanno sentito il bisogno di ritrovarsi qua in modo da far sì che ciascun pezzo non sia da solo ma che l'azione rispetto alla ricerca della verità e della giustizia diventi una una volontà comune e quindi diventi anche più forte noi vi ricontatteremo come se vi faremo vedremo di come costruire vi proporremo la costruzione magari di qualcosa che tenga assieme tutte le realtà noi vi ringraziamo per essere venuti riteniamo che questa giornata per come si è sviluppata abbia senza esagerare penso anche un valore storico perché in questa città che sta cercando di seppellire un po' la verità noi oggi abbiamo l'abbiamo mantenuto a galla tutto quello che ci siamo detti oggi è stato registrato quindi sarà un documento utile speriamo anche ai magistrati speriamo non solo per correlarci ma anche per prendere spunti interessanti per quello per quello che verrà io vi ringrazio ed è stata veramente una bellissima un bellissimo pomeriggio grazie 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 a tutti grazie